Forse possiamo cominciare, posso cominciare io a veramente due minuti questo. Intanto introduco il ciclo di lezioni, è un ciclo di lezioni che era stato sciaguratamente interrotto verso la metà del marzo del 2020 a causa della prima ondata, quella più drammatica della pandemia. Era un ciclo a cui avevano già partecipato con delle lezioni Marco Collareta e Andrea De Marchi. Il tema importante era quello dell'impatto che le tecniche materiale hanno negli studi della storia dell'arte attraverso i secoli. Ho pensato che era bene riprenderlo quest'anno perché c'erano intere zone cronologiche che non erano state ancora presentate e che potevano essere oggetto di lezioni dal mio punto di vista, dal punto di vista di chi fa la storia dell'arte, molto interessanti. L'arco cronologico è un arco cronologico che va dall'antichità, dalla tarda antichità, le due lezioni di Gianfranco Adornato sulle fonti letterarie e sulle fonti materiali per l'archeologia nel Mediterraneo fino alla contemporaneità, al Novecento, al Novecento avanzato. Io farò una lezione nella seconda di queste lezioni su Robert Rauschenberg negli anni Cinquanta, tra anni Cinquanta e Sessanta, quindi la fine dei confini tra la pittura e la scultura. Verranno campionati periodi molto diversi, Giacomo Guazzini parlerà dei materiali e delle tecniche nel Pergiotto intorno al 1300, ci saranno due affondi di Francesco Cagliotti sulla terracotta figurativa nel primo rinascimento fiorentino, i bronzi monumentali, quindi l'uso di tecniche e di impieghi materiali di inzioni diverse. Ci sarà una lezione di Lucia Simonato sulla tecniche dell'arte nella medaglia. C'è questa zona abbastanza importante, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e il Novecento, che copriremo io e Mattia Patti. Mattia Patti, che insegna storia dell'arte contemporanea all'Università di Pisa, si è distinto, specialmente nell'ultimo periodo, nell'ultimo decennio, per un lavoro di fatto unico, non solo in Italia, ma anche proprio a livello internazionale, un lavoro unico sulla analisi materiale delle opere. Il che non vuol dire soltanto cercare di capire come sono fatte, ma cercare di capire i materiali che venivano impiegati e lo studio dei materiali e della loro conoscenza e del loro utilizzo quando gli artisti li impiegavano. Le lezioni saranno due, avranno un taglio diverso e questo appunto, ci tenevo molto che Mattia raccontasse questa doppia valva del dittico di lavori che sta conducendo. La prima sarà una lezione, come dire, più strumentale, tentando di capire qual è l'uso della diagnostica non invasiva per lo studio delle opere. E qui l'arco cronologico sarà lungo e Mattia vi farà vedere con degli esempi molto concreti qual è oggi lo stato dei lavori sulla diagnostica non invasiva e cercare di capire come la diagnostica non invasiva possa aiutare nello studio della storia dell'arte. La seconda lezione tocca l'altro canale del suo lavoro, l'altra linea del suo lavoro, ed è quella sui manuali e sulle tecniche conosciute dagli artisti nel passaggio tra 800 e 900. Cioè ci sono dei problemi di fattività nella pittura in particolare, fatta di materiali nuovi, di supporti nuovi, di saperi nuovi, di manuali nuovi, che di solito sfuggono alla storia dell'arte, che ha un impianto per lo più storico-stilistico, iconografico. Questo è proprio un tentativo di entrare per la prima volta nell'officina degli artisti, nel lavoro concreto degli artisti. E mi piaceva che questo ciclo di lezioni sulle tecniche materiali cominciasse proprio dall'aspetto più concreto, più materiale, più indagabile dal punto di vista delle tecniche, della materia con cui le opere d'arte sono eseguite e sono costituite. Ed è per questo che mi fa molto molto piacere lasciare la parola a Mattia, comunque per questo doppio ciclo di lezioni, una oggi, scienza e la diagnostica non invasiva per lo studio delle opere d'arte, la seconda, fra due giorni, il 3 febbraio, giovedì, la rivoluzione industriale dell'arte, nuove materiali e nuove pratiche nella pittura tra 800 e 900. Do a Mattia la parola, grazie. Grazie molte, Flavio. Mi sentite, vero? Non solo in aula, ma anche da casa. Grazie molte, Flavio. Ringrazio molto di essere stato invitato. Mi fa enormemente piacere presentare i risultati della mia ricerca e anche i problemi, lo farò soprattutto oggi facendo riferimento anche a ricerche condotte da altri, ma particolarmente significative, utili per comprendere l'argomento di cui intendo occuparmi, presentare insomma un ramo della ricerca storico-artistica che si sta giorno dopo giorno trasformando, evolvendo molto rapidamente. Allora, scusatemi, vorrei semplicemente sistemare i due schermi in maniera tale da poter seguire e gestire ogni cosa nel migliore dei modi. Mi fa molto piacere, devo dire, la condivisione dell'altro schermo, la gestiamo dall'aula, vero? Ecco, sì, sì, perfetto. Non so se devo fare qualcosa io. No, va bene così, benissimo. Mi fa molto piacere, volevo ancora dire, parlare di diagnostica alla scuola normale perché proprio durante una mia esperienza ormai lontana nel tempo di studio e di ricerca durante il perfezionamento, l'equivalente del dottorato proprio in normale, iniziai a occuparmi, a interessarmi di diagnostica e di studi tecnici per lo studio delle opere d'arte. Fra l'altro, ecco, il caso studio con cui vorrei chiudere la prima parte, diciamo, di questa mia doppia lezione oggi è proprio dedicata a un'opera che iniziai a studiare mentre stavo facendo la scuola di perfezionamento. Sono poi tornato nel corso degli anni con nuovi strumenti diagnostici a indagare quel dipinto di cui vedremo qualche risultato spero interessante e mi faceva piacere, non tanto per autoreferenzialità ma quanto per omaggio alla scuola che tra le moltissime sue linee di ricerca ha saputo sollecitare gli studenti e lo fa tuttora anche in questa direzione. Ecco, il problema che oggi andiamo a affrontare è un problema estremamente ricco, complesso. Io cercherò di parlarvi di alcuni aspetti che spero aiutino chi di questo argomento almeno a entrare pian piano all'interno dell'ordine dei problemi, delle questioni che interessano la diagnostica non invasiva per lo studio delle opere d'arte. è una zona, un'area di studio, di ricerca che ha avuto, devo dire, un periodo un paio di 20 anni fa circa di grande fortuna andava molto di moda a livello internazionale soprattutto c'è stato un periodo in cui sembrava all'ordine del giorno in occasione delle grandi mostre inserire a modi effetti speciali in un film radiografie o altre indagini per arricchire in qualche modo e rendere più gustoso il piatto appunto delle mostre. mi riferisco a un periodo in cui, che ora è molto male, così come anche in tanti altri paesi europei e non solo, era nata e si stava consolidando una vera e propria industria di mostre spesso destinate a un grande pubblico e non sempre per necessità di cose diciamo così portatrici queste mostre, queste iniziative di grandi novità. per questo motivo la scienza è stata spesso chiamata in ballo in quel caso. A dire il vero, l'incontro tra arte e scienza è un incontro che possiamo definire rispetto anche alla relativamente giovane età della storia dell'arte, antico perché di fatto è già dalla fine dell'Ottocento che le indagini scientifiche vengono applicate con una certa regolarità allo studio delle opere d'arte. Il caso più significativo, che vi ricorderò poi meglio più avanti, è quello della radiografia. I raggi X nascono nel 1895, vengono scoperti, si incominciano a fare radiografie. Nel 1896 esce una pubblicazione con alcune radiografie di oggetti d'arte per cui l'applicazione è immediata per alcune tecniche, le analisi agli infrarossi si iniziano a condurre sui dipinti già dagli anni 30 e alla fine degli anni 30 proprio a Roma, in Italia, si tenne una conferenza internazionale importantissima dedicata proprio alle possibilità conoscitive che le indagini scientifiche offrivano agli studi storico-artistici e agli studi per il restauro. Per cui stiamo parlando di un momento ormai molto lontano nel tempo, non è quindi, diciamo così, affare dei giorni nostri. Però, a dire il vero, e qui mi riallaccio anche a quanto giustizia nell'introdurre la lezione, negli ultimi tempi il panorama degli studi intorno al rapporto tra arte e scienza e alle indagini diagnostiche si sta rinnovando moltissimo. Anche perché si è capito, ormai in maniera definitiva, non solo in Italia, dove già da tempo lo si era capito, ma anche a livello internazionale, che la diagnostica offre delle possibilità di studio importantissime, insostituibili in certi casi, sia agli storici dell'arte, sia ai restauratori. E ovviamente la diagnostica, se ben concepita, se ben progettata, può portare dei risultati a volte di grande rilievo, per certi versi rivoluzionari. Esistono tanti casi, che vi potrei citare, per la importanza della diagnostica, per il restauro, per lo studio della storia dell'arte. Faccio solo un esempio, piuttosto celebre. Negli ultimi, nel 2010-2011, sono stati iniziati i lavori di restauro dell'Adorazione dei Magi di Leonardo, che era un dipinto degli Uffizi, un dipinto, una tavola disegnata e non conclusa, interrotta da Leonardo, su cui nel corso del tempo erano state applicate innumerevoli strati di vernice protettiva, che l'avevano resa pari a un dipinto monocromatico giallastro, così come l'abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa. Dal 2010 al 2016-2017 sono state fatte fondamentalmente, nel 2015-16, indagini diagnostiche, le più approfondite, le più aggiornate, per studiare e conoscere questo oggetto. Soltanto dopo anni di indagini diagnostiche, i restauratori hanno preso gli strumenti di lavoro, hanno messo l'opera suvandosi delle possibilità di controllo, di verifica, offerte dalle indagini diagnostiche, che hanno condotto un restauro secondo un metodo che fino a pochi anni fa non esisteva, perché le analisi non erano arrivate al tal punto da offrire un sostegno così importante ai restauratori. Per cui è un ambito, questo è un territorio di assoluta importanza per la tutela, la conoscenza, lo studio e la conservazione, insomma anche materiale, delle opere d'arte. L'ambito di cui ci occupiamo è un ambito che noi possiamo chiamare molto semplicemente diagnostica, in questo caso, nel caso nostro di oggi, diagnostica non invasiva, perché facciamo riferimento e partiamo da alcune tipologie, metodologie diagnostiche, di analisi. Analisi che, come la radiografia, si usano anche in campo medico, in campo industriale, in molti altri settori. I nomi con cui di solito questo ambito di ricerca viene indicato sono però, a dire il vero, diversi. Giusto per allineare alcuni termini, quando si parla di archeometria, che è un termine che ora è andato passato un po' di moda, ma che di fatto funziona perfettamente anche oggi, si parla più o meno della stessa cosa, cioè si parla di misurazioni e indagini che permettono di conoscere manufatti, oggetti, reperti archeologici anche. In ambito internazionale, in ambito anglosassone, si è diffuso molto il termine technical art history, una sorta di branca speciale della storia dell'arte dedicata in maniera esclusiva ai problemi tecnici. Questa è un'espressione che a me non piace molto, perché sembra ritagliare, perimetrare in maniera... l'ambito di studio rispetto al resto delle ricerche, però di fatto è bene tenerne conto, per cui potrebbe capitare un domani di leggere un testo e di fare riferimento a questa technical art history, che cos'è? È ciò di cui ci occupiamo oggi, la diagnostica artistica. Il termine che viene usato più felicemente e efficacemente negli ultimi anni è il termine che vedete nella pagina di questo sito web citato, questo HS, Heritage Science, cioè scienze del patrimonio, scienze del patrimonio e scienze del patrimonio culturale, potremmo tradurlo, che è un'espressione diffusa da non molti anni e che viene giustamente adottata anche per la sua elasticità ormai in maniera piuttosto regolare. La pagina che vi mostro è la pagina di un'infrastruttura stabile, quindi non solo un progetto a termine, ma una vera e propria istituzione, entità che dovrebbe durare almeno, così è previsto nel corso del tempo, dedicata proprio alla diagnostica artistica. Questo è un progetto europeo che, a base in Italia, i coordinatori sono dei colleghi del CNR di Firenze, anzi in questo momento è proprio il CNR, aderiscono a questa infrastruttura, numerose università e musei, centri di ricerca di tutta Europa, con adesioni importanti anche dagli Stati Uniti, da altri continenti, e questo sito web è una miniera, devo dire, di informazioni, anche di possibilità di approfondimento. È lingua inglese, a dire il vero poi esiste anche una sezione italiana di questo, l'indicazione anche dell'indirizzo web più semplice, mi sembrava opportuno che fosse questa, quella da dare. Ecco, cosa intendiamo, insomma? Intendiamo, entrando un po' nel merito delle cose, un insieme di indagini per diagnostica, intendiamo un insieme di indagini, nel nostro caso oggi, dicevo, non invasive, che ci permettono di acquisire informazioni su manufatti artistici. Queste informazioni sono, per lo storico dell'arte, equiparabili perfettamente a qualsiasi altra forma di documentazione. Quando noi andiamo a realizzare una riflettografia, una radiografia, o anche semplicemente una fotografia in luce speciale su un dipinto, su una scultura, andiamo a raccontare, anzi, meglio ancora, un documento che prima non esisteva. Esattamente come nel caso in cui, chesso io, prendiamo una botta a una mano, andiamo a farci un colpo a una mano, andiamo in ospedale a farci una radiografia per verificare che niente sia rotto, e andiamo a produrre, insieme al radiologo, con la partecipazione del nostro dito, della nostra mano, andiamo a produrre un documento, un'immagine che permette di studiar meglio la conformazione, lo stato di salute della parte del nostro corpo. Ecco, dal punto di vista dello storico dell'arte, noi siamo storici dell'arte, la diagnostica è anzitutto principalmente questo, un insieme di metodologie di lavoro che permettono di produrre documenti nuovi, il che è piuttosto divertente, perché di solito lo storico dell'arte va in archivio, va in biblioteca, cerca tra lì fotografie, documenti di ogni genere, gli elementi da mettere poi sul tavolo di lavoro e attraverso confronto, studio, interpretazione, arrivare a produrre il risultato della propria ricerca. Ecco, nel caso della diagnostica, lo storico dell'arte ha la possibilità di produrre dei documenti nuovi che prima non esistevano attorno a un manufatto. e lo può fare, nel caso di cui ci occupiamo oggi, in maniera non invasiva, ossia non danneggiando l'opera, anzi neppure toccando l'opera, non mettendo insomma a repentaglio l'opera in alcuna maniera. Questo è molto importante. Ovviamente, come questa fotografia già in qualche maniera indica, non è lo storico dell'arte da solo a fare la diagnostica, anzi in certi casi lo storico dell'arte può concordare o commissionare, diciamo, legge soltanto il risultato. In altri casi, come in questo, invece il gruppo di lavoro è composto da figure di diverso profilo, fra cui anche i storici dell'arte. Quello in ginocchio sono io, molti anni fa, quando collaboravo con l'opificio delle pietre dure e capitava abbastanza infrequente di fare indagini all'interno degli uffizi dei musei fiorentini, oltre che nel laboratorio della fortezza da basso dell'opificio. I gruppi di lavoro che si occupano di diagnostica solitamente sono gruppi davvero molto interdisciplinari. Perché? Perché fondamentalmente per realizzare un'analisi serve sì il tecnico, il chimico, il fisico, ma per realizzarla serve un progetto diagnostico. Cioè bisogna decidere che cosa si va a focca. In questo caso non la si muove neppure da parete, come vedete, rispetto al vecchio allestimento degli uffizi. Però in molti casi invece le opere, per essere indagate anche con tecniche non invasive, devono essere tolte da parete o dal pedistallo, smontate dalla cornice, magari messe su un cavalletto. Ormai la diagnostica si fa per lo più con strumenti portatili, per cui si tende a far viaggiare gli strumenti, la strumentazione e non le opere. Perché ormai la tecnologia è arrivata a un punto per cui sono rarissimi i casi in cui è il manufatto a doversi spostare. Per fare un progetto diagnostico però bisogna che ovviamente ci sia, diciamo così, un obiettivo di lavoro. Quindi magari il direttore di un museo o uno storico dell'arte come posso essere io che lavora in una università o che so io un restauratore può alzare la mano e dire beh sarebbe il caso di fare una radiografia a questo dipinto perché dobbiamo capire e qui i problemi possono essere più diversi. Possono essere problemi di carattere squisitamente conservativo. L'opera sta male, sta soffrendo e bisogna capire esattamente in che cosa consistano i processi di degrado a cui sta andando incontro o in che modo si possa intervenire con un'operazione di restauro possono essere anche di contro su un altro versante squisitamente storico-artistici. Io sto studiando le tecniche pittoriche di Michelangelo e ho bisogno di raccogliere i più dati possibili sulle opere che ho a disposizione che posso indagare. Ovviamente esistono poi anche delle situazioni miste in cui magari un'opera viene in portare stauro per un intervento conservativo e poco a poco si capisce che attraverso le indagini si possono ricavare da quell'opera informazioni storico-artistiche molto importanti e si aprono delle campagne diagnostiche anche impegnative. Le situazioni sono molto diverse. Bisogna dire che è molto importante che il gruppo di lavoro sia interdisciplinare tant'è che troverete anche letteratura vi darò poi un po' di bibliografia di riferimento alla fine della lezione o ve la lascerò magari giovedì raccogliendo proprio dei PDF e mettendovi a disposizione. Però troverete in questo campo molto spesso gli articoli e le pubblicazioni sono firmate da più persone perché appunto il gruppo di lavoro è costituito da un restauratore da uno storico dell'arte da un fisico magari e l'idea di lavorare tutti attorno a un tavolo di lavoro cioè l'idea anche di saper lavorare insieme a profili a figure che hanno una cultura competenze conoscenze completamente diverse. Questo lo dico anche perché di fatto sta diventando anche una delle prospettive di lavoro per chi studia la storia dell'arte anche io essendomi specializzato in questo ambito ho attivato un corso un insegnamento proprio di diagnostica per lo studio delle opere d'arte qui all'Università di Pisa ma a dire il vero da più parti a vari livelli di formazione si sta costruendo sempre più in questo settore anche perché gli storici dell'arte che lavoreranno nelle soprintendenze nei musei sempre più spesso che lavorano e lavoreranno nelle soprintendenze nei musei sempre più spesso dovranno far conto con questo tipo di informazioni e di documenti. Ecco uno degli aspetti fondamentali e più divertenti per altri colleghi è invece una tortura terrificante pazzesca è proprio quello di stare al tavolo di lavoro con chimici fisici che magari hanno un punto di vista una prospettiva completamente diversa da quella dello storico dell'arte che so io c'è il restauratore che non vede l'ora che le indagini finiscano perché così gli viene commissionato una volta per tutte il lavoro e può iniziare a mettere sul tavolo operatorio l'opera e iniziare a lavorare e in quel caso lo storico dell'arte deve frenare deve rallentare deve sollecitare tutti alla massima cautela perché magari eliminare assottigliare che so io uno strato di vernice può essere pericolosissimo per l'opera e le indagini secondo le informazioni che magari il chimico può dare possono diciamo così raccomandare proprio il non intervento per cui è molto divertente anche compiere questo lavoro un po' perché come questa fotografia documenta si va sul campo ci si confronta direttamente con gli oggetti con la dimensione materiale degli oggetti delle opere e questo è eccitantissimo devo dire da un altro anche perché c'è questa dinamica questa relazione complessa con figure diverse che tutto sommato costituisce un po' anche il sugo più gustoso di questa di questa vicenda le indagini non invasive delle quali molto sinteticamente ci possiamo occupare sono quelle che vi elenco si raggruppano fondamentalmente in due blocchi scusate questa lunga introduzione un po' metodologica un po' anche per cercare di prendere di mira l'oggetto di studio ma poi passeremo a esaminare i documenti direttamente sarà anche più divertente con questi documenti ecco le analisi non invasive questa però è una parte importante un discorso che credo non possiamo assolutamente eliminare si dividono in due blocchi le indagini per immagine il cosiddetto imaging che è costituito da una serie di tecniche che vanno dalle più semplici e banali alle più complesse e evolute non vi parlerò dell'ultima della macro XRF a scansione perché troppo complessa da presentare molto sinteticamente in una lezione come quella di oggi ma cercheremo di scorrere di verificare i dati essenziali le caratteristiche essenziali delle altre tecniche si parte dalle riprese fotografiche perché come insomma potrà sembrarvi banalissimo ma vi inviterò anche poi a mettervi alla prova al di là dell'incontro di oggi è anche la cosa più semplice da fare ormai tutta la camera possiamo fare che sia ad altissima risoluzione o che sia una fotocamera semplice possiamo già fare della diagnostica volendo cioè possiamo già raccogliere dei documenti importanti delle informazioni importanti su oggetti su opere le riprese fotografiche poi esistono in formato in modalità diverse macro e micro fotografia fotografia e luce radente e anche questa la si può fare semplicissimamente con una lampadina e un telefono niente di più ovviamente fino a un certo livello la fotografia in luce trasmessa che consiste nel retroilluminare l'oggetto e ne parleremo e poi esistono altre indagini che sono più o meno note forse molti di voi avranno sentito parlare della fluorescenza gli ultravioletti che è una tecnica che si usa modificare lo stato di conservazione degli oggetti potrebbe esservi capitato di vedere un restauratore con una lampada di wood portatile anche una di queste lampadine che si trovano ovunque che illumina magari la superficie di un dipinto per vedere se ci siano delle ridipinture dei ritocchi o se sia stato verniciato esiste poi una delle tecniche più gustose ricche anche di informazioni soprattutto per lo storico dell'arte che è la riflettografia infrarossa di cui vi parlerò che è una tecnica che nasce negli anni 30 ma si sta continuamente rinnovando anche oggi con risultati eccezionali la radiografia X la conosciamo tutti cercheremo di vederla in maniera un pochino più precisa in rapporto allo studio delle opere d'arte e poi c'è questa tecnica di nuova introduzione si sta diffondendo negli ultimi sette anni i primi articoli sono del 2013 e si è diventata ormai una tecnica di routine da 4-5 anni non di più proprio a darvi un'indicazione della rapidità e anche intensità con cui si fa ricerca e si sviluppano nuovi strumenti questo è un aspetto importantissimo guardate siamo storici dell'arte e stiamo parlando di dati scientifici lo storico dell'arte fra le tante cose quando si occupa di questo di questo ambito deve sapere che le indagini essendo state introdotte già a fine ottocento sono state fatte magari possono essere può darsi che siano state fatte più volte sullo stesso oggetto che so io sul tondo doni di Michelangelo figuriamoci esiste una radiografia degli anni 30 malmessa ormai anche un po' sarebbe quasi da restaurare però esiste una radiografia degli anni 30 poi quel signore con la maglia bianca che vedete con le mani sui fianchi è Uzzegoli che ha restaurato quest'opera quando era in servizio agli uffizi all'inizio degli anni 80 il gruppo di lavoro che vedete qui vede un altro restauratore Roberto Bellucci che ha restaurato fra l'altro in Opificio l'Adorazione dei Magi più di recente e anche lui un restauratore di dipinti e insieme a Uzzegoli alla fine degli anni all'inizio degli anni 10 del 2000 ha compiuto una serie di indagini sul Tondodoni e questa è una fotografia del 2009 che fa riferimento a questa campagna conoscere le indagini vecchie e conoscere anche gli strumenti con cui queste indagini sono state fatte fa parte dello studio dei documenti ai quali facevo riferimento prima non dobbiamo dimenticarci prima di fare una nuova indagine di verificare se esistano delle indagini compiute in precedenza e questo è uno di tutti in ambito internazionale quello di trascurare l'importanza degli archivi di indagini è un tema gigantesco su cui purtroppo né la comunità europea né l'Italia sta investendo ancora quanto si dovrebbe però esistono migliaia di indagini che sarebbero preziosissime soprattutto il rapporto ai laboratori di restauro dei grandi musei italiani e che si stanno deteriorando tenete conto che molti di questi come vedete molte di queste indagini si fanno attraverso calcolatori computer per cui si va anche incontro ai problemi dell'obsolescenza dell'invecchiamento dei formati dei supporti pensate a indagini fatte e salvate su vecchi dischi che ora quasi nessun computer legge più è un problema che davvero più si va avanti e più diventa importante oltre alle indagini per immagine chiedo scusa io tendo a correre un pochino se non dovessi essere chiaro la mia presentazione vi prego anche da casa penso possiate attivare il microfono io la chat non la controllo comunque mandatemi un segnale che non è un problema interrompersi e riprendere meglio un discorso anche perché io metto le mani avanti sono storico dell'arte per cui vi parlo di indagini scientifiche e alcuni aspetti non ve li saprò sintetizzare in tre parole perfettamente soprattutto i principi scientifici al di là delle indagini per immagine e queste indagini per immagine hanno la particolarità di studiare tutta quanta la superficie dell'oggetto e di mappare certi fenomeni o certe informazioni che noi ritroviamo sull'oggetto che so io un dipinto agli ultravioletti capiamo che è stato verniciato la vernice può avere una tonalità bluastra o verde o gialla a seconda di che vernice si tratta in ultravioletto e noi capiamo possiamo dire lo vedremo se questa vernice è stata distribuita su tutto l'oggetto si parte sempre dalle indagini per immagine perché sono quelle che fondamentalmente costituiscono la base del lavoro ma esistono poi anche altre indagini che si chiamano spettroscopiche o indagini puntuali o spettroscopiche puntuali sono indagini questo è un esempio gli spettri che vedete sulla destra questi grafici credo non facciano riferimento a questo dipinto è soltanto a mod esempio che vi ho composto questa diapositiva questo è un dipinto del Museo Munch di Oslo un'opera appunto della metà degli anni 90 angoscia di Edvard Munch questi puntini colorati che vedete sull'immagine sono i segni che su computer con un programma di gestione poi delle indagini vengono fissati per ricordare ci sono dei numerini delle sigle che li accompagnano a quale punto a quale area si parla di indagini puntuali ma sono sempre indagini che hanno come spot un millimetro tre millimetri o cinque millimetri di diametro per cui sono delle piccole aree a quale area di riferimento a quale area fa riferimento lo spettro il grafico che vediamo sulla destra questi grafici danno delle informazioni sui materiali costitutivi cioè su ciò che si trova sull'oggetto e le indagini di questo tipo di cui noi oggi non ci occupiamo sono numerosissime anche queste in continua evoluzione usano energie diverse dall'infrarosso agli ultravioletti ai raggi X e sono indagini che solitamente necessitano per la loro esecuzione di un chimico sono indagini però non invasive con strumentazione portatile vedete nella fotografia vedete una collega del CNR di Perugia una chimica del CNR di Perugia Francesca Rosi specializzata proprio in questo tipo di indagini che all'interno di un museo con un cavalletto dopo aver messo l'opera fuori cornice su un cavalletto è un dipinto divisionista di Vittore Grubisi quello che vedete che intravedete sta facendo un'indagine con questa scatolina di plastica collegata con dei fili a un computer portatile e sta controllando al tempo stesso gli spettri e le informazioni che arrivano dalla macchina l'oggetto è a pochi millimetri dalla superficie lancia un raggio di energia assolutamente innocuo sull'oggetto l'indagine non invasiva è particolarmente importante perché non danneggia l'oggetto in alcun modo è anche ripetibile per cui volendo noi dopo dieci anni possiamo con uno strumento migliore tornare a verificare certe informazioni acquisite da Francesca Rosi qualche anno fa in questo museo e non sto a dirvi queste sono indagini molto importanti per gli stessi motivi che ho elencato già prima che cosa possiamo ottenere entrando più nello specifico e prima di passare agli esempi dalle indagini non invasive noi possiamo ottenere informazioni su che cosa è stato usato per realizzare l'opera le indagini per immagine e le indagini soprattutto spettroscopiche alle quali ho fatto brevissimo riferimento permettono di capire che so io se un certo blu è un lapislazzuli o un azzurrite se un certo bianco è un bianco a base di piombo o un bianco a base di zinco o un bianco a base di titanio e queste informazioni possono essere preziosissime per conoscere la storia dell'opera per capire se l'opera è stata restaurata per capire anche a quali problemi potrebbe andare incontro una giovane chimica del CNR di Perugia in Italia siamo molto forti nel campo della diagnostica mi riferisco all'ambito scientifico e i nostri chimici i nostri fisici lavorano fondamentalmente un po' in tutto il mondo il capo scienziato del laboratorio del Metropolitan Museum of Art di New York è un italiano e la coordinatrice ormai di fatto del laboratorio dell'Art Institute di Chicago è un'italiana è uno dei fisici è una chimica italiana è uno dei fisici che lavora lì più attivi e vivaci Giovanni Verri è anche egli italiano e così anche al Ghetti Conservation Institute che è forse l'istituzione più ricca e anche potente in termini proprio di organizzazioni campagne di indagini a livello mondiale c'è una cospicua presenza di scienziati italiani così come quasi tutti i musei europei forse proprio la ricchezza del nostro patrimonio ha sollecitato forme di collaborazione molto stretta tra storici dell'arte restauratori e scienziati sono queste le tre zampe diciamo del tavolo di lavoro al quale ho fatto riferimento e per questo motivo le cose funzionano abbastanza bene insomma possiamo studiare che cosa è stato usato per realizzare l'opera ma anche come questa è una fotografia evocativa non che intenda presentarvi indagini sulle opere di Mathieu però che è un pittore francese che qui vedete all'opera come uno spadaccino di fronte a questa gigantesca tela però ecco possiamo attraverso le indagini capire come i manufatti come le opere sono state realizzate noi abbiamo io mi occupo di arte contemporanea sono uno storico dell'arte contemporanea abbiamo spesso l'illusione noi contemporaneisti di poter conoscere tutto di un artista se pensiamo che so io a Pablo Picasso che è stato fotografato e ha fotografato egli stesso i propri ambienti di lavoro i propri strumenti di lavoro le proprie opere durante l'esecuzione innumerevoli volte possiamo avere l'illusione di conoscere tutto del suo lavoro e di non avere niente da scoprire non v'ho messo la slide ma esiste un sito web meraviglioso su Guernica pubblicato dal museo Reina Sofia dove l'opera sta e il capolavoro del 1937 di Picasso è analizzato scomposto documentato attraverso migliaia e migliaia di lettere articoli di giornale fotografie e esistono anche le indagini scientifiche all'interno di quel sito web se non sbaglio si chiama Rethinking Guernica Ripensando Guernica è un sito davvero che può anche essere molto utile ai fini didattici perché permette di capire anche i rapporti per un'opera così importante anche rispetto ai fatti di storia contemporanea non solo ai fatti artistici può essere anche molto interessante trarre spunto dai documenti che sono pubblicati all'interno di quel sito web però in quel sito web esistono anche analisi diagnostiche perché perché di fatto un po' per motivi conservativi ma anche per motivi di conoscenza del processo del come l'artista ha realizzato l'opera le indagini sono utili perfine in quel caso figuriamoci nel caso di artisti di cui noi abbiamo pochissime informazioni di Piero della Francesca noi abbiamo poche decine di opere e i documenti anche nei casi più ricchi e generosi sono molto molto limitati ovviamente il tempo fa una selezione spietata nei confronti della documentazione ecco in quei casi forse vien da dire soprattutto la diagnostica ci può aiutare incredibilmente perché certo noi non abbiamo la possibilità di vedere Giotto in fotografia o in un video come può accadere con i video di documentazione documentari su Pollock su Matier o su molti altri artisti del Novecento Giotto mentre realizza la croce di Santa Maria Novella ci farebbe tanto piacere sarebbe spassoso e interessantissimo ma purtroppo non è possibile ecco in assenza di questa documentazione aiutarci con la diagnostica ovviamente non fa pari però può essere molto utile quindi noi studiamo che cosa è stato usato e come questi materiali e con cui nel far questo a dire il vero noi abbiamo anche la possibilità di studiare che cosa è stato realizzato non solo nello studio nella bottega nell'atelier dell'artista quindi in una fase diciamo così di vita privata dell'opera prima che l'opera venisse consegnata pubblicata esposta e questo è gustoso anche per il Novecento anche per un'opera realizzata l'anno scorso perché è come un po' sbirciare lo vedremo dal buco della serratura nello studio dell'artista ma attraverso le indagini come vi ho detto per motivi conservativi noi abbiamo la possibilità di sapere anche che cosa è successo dopo la consegna la pubblicazione dell'opera a questo oggetto se ci sono stati dei restauri delle manomissioni delle trasformazioni e possono essere le più diverse ovviamente forse il baricentro degli studi cioè sulla fase privata sulla fase progettuale esecutiva dell'opera si parla spesso almeno io amo parlare di una sorta di ventaglio di compasso aperto tra progetto e materia cioè tra l'idea che l'artista ha avuto in un primo momento rispetto a un'opera e la sua realizzazione materiale ecco la diagnostica spesso permette di lavorare in questo in questo in questa area partiamo dalle riprese fotografiche e non vi sembrerà sciocco spero attraverso gli esempi che vi mostro partire dalla ripresa fotografica più semplice di tutte la cosiddetta fotografia in luce diffusa la fotografia con luci equilibrate che possiamo trovare nei libri d'arte nei cataloghi come una fotografia che semplicemente documenta l'opera all'interno di un progetto diagnostico può dare risultati di incredibile godimento soddisfazione per quale motivo perché ovviamente non si tratta di limitarsi a fotografare l'oggetto questo ad esempio è un dipinto molto importante per la storia del futurismo realizzato da Giacomo Balla tra l'estate e la fine del 1912 la mano del violinista una delle prime sperimentazioni di Balla in ambito futurista di studio del movimento è un dipinto che si caratterizza non solo per la ripetizione vedete come se fossimo davanti a una sorta di moviola di questa mano che scorre diagonalmente e per il moltiplicarsi delle linee dell'archetto di queste vibrazioni quasi atmosferiche queste virgole chiare piano ma soprattutto sul fondo ma si caratterizza molto anche per questo singolare modernissimo taglio trapezoidale da trapezio rovesciato della cornice Balla era solito già prima di entrare nella sua fase futurista era solito modellare progettare le cornici con grande libertà però in questo caso questa cornice costituisce forse l'elemento distintivo principale dell'opera ecco al momento di studiare quest'opera qualche anno fa questo è un dipinto che avete visto nella didascalia precedente nel museo di arte moderna italiana di Londra la collezione Estoric al momento di organizzare delle indagini su quest'opera capitò ovviamente eravamo d'accordo con il museo di fare un approfondimento su un nucleo abbastanza importante di dipinti di Carlo questo dipinto per fare una radiografia e io devo dire la verità con grande ingenuità non mi ero posto il problema di che cosa potesse esserci sotto questi triangoli neri e queste fasce bianche ai lati ai lati dell'opera ora non vi aspettate chissà quelle scoop molto banalmente e questa è la fotografia del dipinto senza cornice ci stanno dei triangoli neri dipinti e dei triangoli e delle fasce diagonali bianche con delle correzioni devo dire anche piuttosto curiose non abbiamo qui tempo per commentare che fanno capire senza cornice capiamo che è stato modificato più e più volte il profilo di questa sagoma trapezoidale che vi ho detto ma questo è già un dato importante nessuno l'aveva mai rilevato prima prima d'allora soprattutto dal momento che questa cornice chiude anche il retro è stato possibile con due semplici luci e qui ammetto questa è una fotografia non sono riuscito a recuperare la fotografia ottima fatta con una fotocamera professionale questa è una fotografia fatta col telefono perché appena smontammo il dipinto lo fotografammo col telefono sul retro e userò queste immagini molto semplici per mostrarvelo ecco il retro non sempre è visibile di un'opera il retro può raccontare un sacco di cose ad esempio in questo caso vediamo se riesco col puntatore ad aiutarmi in questo caso vedete che parte dei colori dell'area centrale dipinta i bruni gli azzurri i verdi si sono trasferiti per un eccesso d'olio di legante per un difetto diciamo così della pittura per una scarsissimo spessore della tela si sono trasferiti sul retro ma poi come casi si vede senza smontare il dipinto di cornice in questo caso invece è stato necessario smontarlo di cornice vedete che c'è una serie piuttosto ricca di etichette iscrizioni che raccontano cose più o meno interessanti rispetto dell'opera ve ne mostro una giusto a titolo d'esempio rapido non ha bisogno di grandi di grandi discussioni questo questo caso questa è una etichetta che è stata fra l'altro probabilmente stava sulla tela è stata rimossa e incollata durante un intervento di restauro sul telaio in alto questa etichetta presenta il timbro della dogana che è il segno solitamente che documenta un passaggio all'estero diciamo di un'opera d'arte la cosa interessante del timbro è che c'è una data molto precisa 29 agosto 1913 e questa data è più interessante perché noi conosciamo la storia di questo di questo dipinto che viene realizzato vi dicevo conclusa alla fine del 12 e Balla poi che era appena entrata all'interno del gruppo futurista comincia a esporlo appena può e è un'opera questa che viaggia molto fin da subito e fra le cose che è stato possibile da questo timbro ricavare è che l'opera che era già andata a Rotterdam forse non si legge nella pagina in basso ma tra le opere di Balla indicate ci sono i ritmi dell'archetto oggi noi la chiamiamo come la mano del violinista ma a lungo e l'artista l'aveva battezzata ritmi dell'archetto però in questo catalogo di Rotterdam del maggio-giugno l'opera è presente documentata successivamente l'opera rientra in Italia e riparte a settembre subito dopo l'estate per andare a Berlino per cui questo timbro ci documenta diciamo così un affannato viaggiare movimentare quest'opera da parte di Balla di Marinetti insomma di tutto il gruppo che stava lavorando all'organizzazione delle mostre futuriste in questa fase e questo è un dato già piuttosto piuttosto interessante bisogna dire le fotografie poi oggi soprattutto oggi che anche con un telefono mobile riusciamo con lo smartphone riusciamo a fare delle fotografie altissima risoluzione molto ravvicinate ci sono delle possibilità di macro fotografie che prima erano disponibili solo con le fotocamere più evolute costosissime ecco oggi con le possibilità delle fotocamere professionali e non abbiamo la possibilità di fare macro fotografie ingrandimenti anche molto molto importanti di aree della superficie che ci permettono di entrare sempre di più sono fotografie fatte semplicemente con una fotocamera da una distanza anche abbastanza forse un metro di distanza per cui nemmeno così ravvicinate e attraverso questa immagine ovviamente noi possiamo capire la fluidità la liquidità quanto le pennellate sono liquide corpose come in che sequenza sono state realizzate se ci sono ad esempio dei pasticci qui sembra che ci sia in quest'area ci sia un piccolo problema conservativo forse l'opera è stata sfregata leggermente perché vedete che sembra aver perso un po' di materia ha comunque una certa disomogeneità di superficie in quest'area l'oggetto esistono poi anche i microscopi ora io vi faccio vedere una fotografia così a titolo d'esempio il solito collega già visto davanti al Tondo Doni Ezio Buzzegoli con un microscopio portatile proprio all'interno della Estoric Collection di Londra comunque solitamente i microscopi da banco cioè da banco i microscopi portatili che usano i restauratori questo è un microscopio molto semplice bisogna dire possono servire anche per documentare molto bene l'opera a un livello ancora più approfondito non vi faccio vedere immagini tratte dal dipinto che è sul tavolo di lavoro in questo momento che è un dipinto molto importante di Umberto Boccioni ma vi faccio vedere sempre della collezione Estoric un'altra opera che è lo studio per la cittassale che è una matita e tempera su carta 17x30 è poco più largo di un palmo di mano questo disegno questo disegno questo studio preparatorio è uno studio molto complesso vedete con un sacco di colori realizzato da Boccioni insieme ad altri bozzetti e studi preparatori per il grande capolavoro futurista che oggi sta al MoMA di New York ecco questa è un'opera che a vedo anche con ingrandimenti collenti sembra in perfette condizioni di salute andando a vedere la documentazione e le relazioni di restauro invece perché questo bisogna sempre fare sono documenti che devono anzi essere esaminati sempre prima di muovere l'opera dalla sua collocazione ci eravamo resi conto che l'opera era stata oggetto di un leggerissimo restauro per un problema non meglio chiarito la relazione era un po' fumosa ecco vi faccio vedere molto semplicemente in cosa consista questo problema che interessa l'opera che vi sto mostrando anche oggi l'artista ha usato una tempera piuttosto corposa e questa tempera che ha un grado di indurimento un'elasticità molto ridotta rispetto ai movimenti della carta la carta come il legno ma la carta soprattutto risente delle variazioni termo-igrometriche di temperatura e umidità in maniera fortissima e se noi la trattiamo in maniera non opportuna può muoversi dilatarsi contrarsi piegarsi anche molto rapidamente e questi movimenti in certi casi possono creare dei problemi allo strato pittorico in questo caso si parla di pittura su carta di fatto soprastante e è evidente che questi questi crateri sembrano in queste immagini al microscopio che sono nient'altro che cadute di colore documentano proprio questo il colore in quel punto è saltato non solo è saltato la cosa interessante è che vediamo che c'è un colore sottostante più liquido evidentemente che è riconoscibile questa bianca è la carta che vi indico col puntatorio la cosa forse più interessante è che in altri casi vediamo degli effetti molto diversi cioè queste perdite di materiale sono state risarcite con un intervento di restauro i frammenti che erano caduti di questo verde sono stati rincollati da questo restauratore che però non ha dettagliato molto in fase di relazione di restauro in una maniera occhio nudo non percepibile per cui potremmo dire buona però attenzione per l'opera questo potrebbe portare altri problemi perché la colla che è stata usata su una carta rischia di creare altri problemi qui addirittura vedete che ci sono dei segni quasi di una bruciatura perché evidentemente è stata sottoposta a un calore in questa zona per l'opera e queste sono proprio una sorta di crettatura dovuta al colore che ha preso molto calore questa bianca pelosa che vedete è invece la solita carta alla quale ho fatto riferimento prima dopo aver detto delle macro e micro fotografie e delle fotografie in luce semplice occorre dire qualcosa delle fotografie in luce radente la luce radente davvero è divertentissima da fare anche a casa basta una lampadina una torcia e uno spasso su qualsiasi quadro scultura disegno o anche solo su una superficie di un tavolo di una parete vi potete divertire moltissimo a studiare come quella superficie quell'oggetto è stato fatto o in che condizioni si trova basta di fatto qui noi non possiamo far prove perché c'è moltissima luce naturale artificiale e non è certo il caso e non abbiamo il tempo però basta di fatto usare una torcia e avvicinarla ovviamente in condizioni di sicurezza con un angolo molto molto ridotto rispetto alla superficie dell'oggetto che vogliamo studiare e poi questa superficie la possiamo fotografare e documentare in questo caso ad esempio di fronte a un dipinto di De Chirico la scultura che vedete sul fondo in teca è invece un medardo rosso e siamo sempre alla Estoric di Londra questo dipinto di De Chirico è stato illuminato da sinistra come di solito si illuminano le opere in luce radente anche se ormai questa è un'abitudine una convenzione superata che cosa vediamo in luce radente in luce radente e questo è un altro dipinto di Giacomo Balla pre-futurista sempre della Estoric Collection in luce radente noi possiamo vedere di un dipinto limitiamoci quasi esclusivamente dipinti oggi per semplicità possiamo vedere che cosa spero che le immagini lo mostrino chiaramente possiamo vedere le disomogeneità di materia ad esempio questi riccioli questi biocchi di colore bianco molto spesso che sono stati dati in alto nella superficie della tela per fare le nuvole restituire la densità delle nuvole di questo cielo possiamo vedere lo si capisce meglio da questa immagine le cuciture questa è una cucitura della tela evidentemente l'artista ha realizzato la tela tagliando un tessuto da una pezza molto grande e ha incluso nell'area poi dipinta anche una cucitura qui si vedono anche molto meglio queste disomogeneità di superficie la densità delle pennellate si vedono anche spero lo riusciate a vedere sia a casa che qui in aula queste curve diciamo questi avvallamenti queste ombre diagonali in un angolo della tela che cosa sono? sono le tracce di un problema di tensionamento ora noi non abbiamo il tempo per vedere la fotografia del retro di quest'opera però il dipinto ha perso tensione si è un po' rilassato si dice in gergo e questo è molto pericoloso perché può creare problemi al colore dei sollevamenti per lo stesso problema detto prima e il luceradente anche quando questo non si riesca a notare occhio nudo questo è evidentissimo viene fuori in maniera molto molto evidente si vedono anche forse qualcuno le avrà notate le tracce del telaio retrostante queste sono le linee interne della stecca del telaio sugli assi verticali soprattutto a destra verticale e orizzontale perché? perché la tela probabilmente allentata nel corso del tempo è stata movimentata è abbattuto sul retro del telaio e questi urti per quanto leggeri hanno lasciato una traccia in tutto lo spessore dell'oggetto è un problema conservativo su cui è necessario intervenire e fra l'altro infatti in quell'occasione subito dopo aver fatto queste fotografie concordammo col museo di intervenire e di correggere il tensionamento dell'opera perché poi per il resto è un'opera questa che sta bene in certi casi la luce radente dà degli effetti sorprendenti questo è un dipinto di un artista Osvaldo Licini un pittore marchigiano di cui torneremo a parlare che io avevo visto fino a un anno e mezzo fa soltanto in fotografia perché è un'opera rarissima custodita in maniera gelosissimamente da un collezionista molto molto riservato e questa è una fotografia che ci fa vedere un quadro molto semplice questo è un pittore definirlo surrealista sarebbe assolutamente sbagliato che per un lungo tratto della sua carriera ha alternato un linguaggio fantastico a un linguaggio naturalistico qui vedete ci sono delle colline una casa che si combinano con questa figura un po' sognante scomposta vagamente picassiana ecco per me questo è sempre stato percepito come un quadro molto un celeste questa R questa lettera come capita spesso di trovarne nei dipinti di Licini in questa fase siamo negli anni 50 in basso a destra e poi il bianco della preparazione lasciato nudo in luce radente o comunque dopo aver visto l'opera per la prima volta al vero la lampadina mi si è accesa subito ho detto è incredibile questa è un'opera che se non la si fotografa in luce radente faticosissimamente si riesce a capire come è fatta se non la si ha davanti agli occhi guardate quell'immagine il colore celeste è di una densità sorprendente è di una densità e di una ricchezza che questa forse è un'immagine ancora più cruda ci fa capire come Licini abbia dipinto volutamente agitata turbata questa superficie celeste che sta sul fondo diciamo così dell'immagine il bianco che vedete è un bianco di una preparazione della preparazione bianca che di solito gli artisti o chi per loro stende sulla superficie del legno della tela prima di per lisciarla e prepararla ad accogliere il colore è uno degli strati uno dei livelli diciamo così fondamentali imprescindibili di solito in pittura dei dipinti degli oggetti dipinto è abbastanza curiosa insomma questa immagine poi capite anche molto bene la liquidità la leggerezza di questi segni neri che sono proprio un disegno quasi di calligrafia leggerissimo sembrano quasi fatti a penna sono pennellate ovviamente ma liquidissime un'altra tecnica di indagine che vi mostro qui rapidamente ma che poi tornerò meglio dopo a illustrarvi di fronte a un approfondimento è quella della luce trasmessa anche questa la si può fare in casa in maniera molto divertente questa la si potrebbe fare anche con un foglio di carta qui in piena luce ma non sto a perder tempo si tratta fondamentalmente di illuminare di illuminare con una luce possibilmente non dannosa quindi non calda l'oggetto laddove l'oggetto possa essere studiato in trasparenza per cui ora qui forse soltanto in aula lo vedrete però ecco da una parte è scritto da una parte no ovviamente se lo retroillumino questo foglio di carta mi fa vedere che cosa c'è in trasparenza e ovviamente non è possibile farlo con le sculture o con i dipinti su tavola e nemmeno con molte tele ma con alcuni dipinti su tela questo è possibilissimo vi faccio vedere ancora una volta la mano del violinista e bisogna dire forse potrei anche divertirmi a chiedervi se riuscite a vedere qualcosa in luce trasmessa in quest'opera già si vede qualcosa non è magari così semplice da intuire da questa sola immagine però queste sono le bacchette del telaio queste che vedete queste sporgenze sono le biette cioè sono le chiavi che si inseriscono e si battono per tensionare la tela sul telaio una volta inchiodata al telaio e poi vedete che questa zona è molto trasparente la luce quasi la superficie si vedono quasi delle linee di disegno orizzontali ma soprattutto nelle zone bianche coperte dalla cornice si vedono delle forme appuntite sia a sinistra che a destra e una linea orizzontale che forse riuscite a intuire che fanno riferimento non abbiamo il tempo qui per studiare tutto però ve lo indico magari giovedì forzo un po' il discorso e vi inserisco anche le indagini così ci divertiamo un po' e completiamo il discorso fanno riferimento a un paesaggio a una veduta di una città che Giacomo Valla aveva dipinto su questa tela prima di dipingere sopra la mano del violinista e queste che vediamo questo che vediamo è il campanile di una chiesa e questo è il profilo sono profili di case di edifici che vediamo e questa è fondamentalmente la riva del fiume davanti al quale Valla l'artista aveva realizzato questa prima immagine poi sommersa da un altro strato di colore le opere badate bene noi abbiamo spesso l'abitudine la cattiva abitudine dettata un po' dai dispositivi elettronici retroilluminati che teniamo in mano da mattina a sera un po' anche dall'abitudine prima dell'avvento di questi aggeggi dello studio attraverso le fotografie abbiamo sempre l'impressione soprattutto per i dipinti che le opere siano degli oggetti bidimensionali e invece non è così le opere tutte le opere anche un dipinto su carta uno studio su carta un disegno come quello che abbiamo visto di Boccioni hanno un corpo hanno una pelle degli organi interni per dire così degli strati intermedi e una struttura uno scheletro uno satura che può essere fatta dalla tela del telaio dal tavolato di legno intendiamo appunto l'oggetto nella sua materialità nelle sue diverse dimensioni dobbiamo anche sapere a che livello stiamo andando quando studiamo usiamo una certa tecnica la fluorescenza e gli ultravioletti ad esempio è una tecnica anche qui in maniera molto grossolana perdonatemi sono storico dell'arte e non è il mio obiettivo di spiegarmi il funzionamento scientifico della tecnica ma attraverso una reazione chimico-fisica di alcuni materiali alle luci di Wood cioè le luci ultraviolette che agiscono in una porzione dello spettro elettromagnetico a una frequenza che non è raggiungibile dal nostro occhio ecco attraverso diciamo così una reazione chimico-fisica a certe lunghezze d'onda di un'energia prodotta da queste luci sono le luci nere le luci queste luci viola violette che si trovano anche appunto in queste torce a vattola sono anche un po' pericolose devo dire per i bambini le luci UV perché possono se esposti in maniera prolungata senza occhiali senza lenti possono anche creare dei problemi anche le luci UV più semplici però i materiali certi materiali se sottoposti a queste energie hanno una reazione chimico-fisica si eccitano fluorescono ossia lo stato della materia temporaneamente si modifica e nel momento in cui questa modifica avviene detto proprio in maniera terrificante uno scienziato mi crocifiggerebbe per quel che sto dicendo nel momento in cui questo processo accade si sprigiona si sprigionano dei fotoni che possono essere visti a occhio nudo con le lenti di protezione o fotografati e permettono di capire se certi materiali sono all'interno dell'opera perché noi sappiamo che soltanto alcuni materiali fluorescono agli UV questi materiali sono solitamente materiali organici e alcuni materiali più di altri e a parità di materiale sappiamo che la fluorescenza aumenta con l'invecchiamento molto spesso come vi ho detto già in apertura del mio discorso i dipinti per essere nella fase conclusiva del loro lavoro o comunque per essere protetti vengono coperti da un materiale che comunemente chiamiamo vernice sarebbe più opportuno chiamarli protettivi non sempre nella storia gli artisti hanno applicato dei protettivi al termine del lavoro di pittura Cenino Cennini predicava senza grandi esitazioni la fondamentale importanza di applicare i protettivi delle vernici alla fine per renderle brillanti e per proteggerli dagli agenti atmosferici al termine del lavoro le vernici sono diventate nel corso dei secoli uno strumento molto semplice di routine per proteggere e per restaurare conservare meglio i dipinti a dire il vero le vernici in certi casi non sono state applicate in età contemporanea ad esempio gli artisti spesso non vogliono non volevano possiamo dire già dall'inizio del novecento che le superfici risultassero brillanti specchianti e si sono rifiutati di applicare questi protettivi i cubisti i cubisti ad esempio non hanno Picasso e Braque intendo non hanno mai applicato vernici erano contrari all'uso delle vernici e anzi giocavano proprio sulle differenze di lucentezza o di opacità dei materiali per restituire al meglio le proprie opere purtroppo però i restauratori non ne erano perfettamente informati e soprattutto tra anni 60 e anni 70 molte opere cubiste sono state verniciate una volta applicata la vernice su un dipinto olio moderno l'olio ha un tempo lunghissimo di essiccazione per cui si asciuga in pochi giorni fino a un certo stadio ma poi per essere perfettamente secco asciutto ha bisogno di tanti decenni un secolo e passa a seconda di quali sono i materiali impiegati ecco su un olio relativamente fresco di 40-50 anni applicare una vernice significa impastare la vernice di restauro di cui magari l'opera non aveva nemmeno bisogno oltre ad essere inopportuna con i materiali originali nessun restauratore riesce a oggi a togliere le vernici in certe situazioni è una delle frontiere della ricerca nel campo del restauro quella della rimozione controllata delle vernici di pulitura davvero è un problema all'ordine del giorno all'avanguardia tutti stanno studiando questo tipo di problema e il caso che vi facevo che vi indicavo in apertura quello dell'adorazione dei magi oh qui è partita è partita un'animazione cercherò di controllarla tornando indietro chiedo scusa è proprio oh mammina spero di riuscire a bloccare l'animazione ecco comunque qui vedete il totale del dipinto già all'astro Bruno prima del restauro e perdonatemi e la fluorescenza UV che vedete sulla destra è la fotografia in luce ultravioletta di tutta quanta la superficie quando il restauro non era ancora iniziato lo stratificarsi di diverse superfici anche moderne anche molto vicine a noi nel tempo provoca come fluorescenza questo alone blu verde che opacizza ancora di più l'immagine vedete si intravede a malapena la madonna col bambino la chioma dell'albero e poco altro realizzando il restauro una delle operazioni e qui vi mostro delle immagini che fanno riferimento alle fasi intermedie di restauro chiedo scusa ma questa animazione non mi ricordavo proprio che ci fosse e dovremmo fare un po' di altalena di ping pong tra le slide ecco questo è un particolare prima del restauro e da questo particolare chiedo scusa guardate a sinistra si capisce che non solo la colorazione bruna ma anche certi sbiancamenti sono probabilmente dovuti alla deteriorarsi delle vernisci questa eh no scusate ma qui bisogna che non sta partendo scusatemi tanto ma bisogna che faccia una minima pausa perché e tolga le animazioni perché sennò così impazziamo ehm chiedo scusa eh faccio faccio un lavoro molto semplice che mi allora sfumato applica tutte e spero che questo basti perdonatemi ma spero di aver risolto il problema così vediamo eh e casomai ce ne faremo una ragione ecco durante le fasi di restauro si è cercato di controllare anche attraverso le indagini ma anche attraverso la fluorescenza che è un'indagine il grado di assottigliamento delle vernici questa è un'immagine sono un gruppo di immagini presse da una pubblicazione dell'opificio delle pietre dure che è l'istituto in cui appunto l'adorazione di immagini è stata restaurata ecco dopo aver visto seppure in maniera un po' faticosa il dettaglio prima del restauro mostrarvi questo dettaglio in una fase intermedia ci fa già capire il tipo di effetto di rapporto che si viene a creare tra ciò che vediamo occhio nudo e ciò che vediamo negli ultravioletti ossia l'assottigliarsi delle vernici comporta che cosa? una riduzione del materiale che fluoresce che si illumina quando noi li puntiamo contro queste lampade di wood è una fase intermedia tutte queste macchioline che si vedono nella zona scura sono state poi uniformate omogeneizzate alla conclusione del restauro ci tengo a precisarlo perché altrimenti potrebbe essere equivocata questa immagine gli ultravioletti servono insomma per vedere quali materiali si trovano sopra sulla superficie sull'epidermide di un dipinto di un oggetto e servono anche ai fini del restauro ma attenzione in certi casi eccezionalmente gli ultravioletti proprio perché fanno reagire selettivamente alcuni materiali permettono di garantire di offrire una leggibilità migliore di oggetti di manufatti di opere che risultano compromesse è il caso ad esempio della cappella peruzzi che opera ad affresco ma attenzione quando noi parliamo di affreschi magari poi Guazzini ve lo spiegherà meglio quando parlerà di giotto in una delle prossime lezioni ma quando si parla di tecnica ad affresco noi solitamente intendiamo per gli artisti dell'età di giotto come per gli artisti di età più vicini a noi tecniche miste potremmo dire che è un'espressione terrificante da schivare come la peste però una combinazione intendo di pittura a buon fresco e di pittura a secco con materiali che vengono applicati sopra una superficie magari già lavorata a buon fresco con degli interventi che possono essere a tempra o addirittura a olio per andare a arricchire e a perfezionare l'immagine io nei cinque anni circa in cui ho lavorato in opificio delle pietre dure sono salito su tanti ponteggi tantissimi compreso su quello della cappella Peruzzi quando era ponteggiata mai una volta ho sentito un restauratore dire eh sì questo è tutto a fresco e non abbiamo trovato pittura a secco ho sempre da opere diciamo così del due trecento ad opere del seicento sempre avuto conferma di una combinazione a domanda ha avuto risposte della presenza di tecniche combinate poi noi magari facciamo fatica occhio nudo a registrare le differenze questo è ovvio ma in questo caso il discorso è molto interessante perché questa immagine come tutte le immagini della cappella Bardi ma soprattutto della Peruzzi in Santa Croce a Firenze risulta ben poco leggibile se noi la illuminiamo agli UV e guardate la campagna agli UV ha fatto poi scalpore addirittura è stata fatta una puntata di Super Quark nel 2010 o 11 proprio su questi su questi risultati a segno della spettacolarizzazione facile con cui si possono usare le immagini a volte in maniera anche pericolosa perché proprio in nome della diagnostica si andò a fare dei carotaggi nel Salone dei Cinquecento sul finanziamento del National Geographic non molti anni fa sperando di trovare la battaglia perduta di Leonardo sotto una parete che secondo un'interpretazione bislacca di un'indagine un'indagine di cui oggi non parliamo la termografia alcuni studiosi avevano immaginato esserci poi alla fine è stato un fiasco totale è stata trapanata la superficie seppure in zone di restauro degli affreschi del Salone del Cinquecento senza ottenere un briciolo di risultato significativo per cui attenzione alla spettacolarizzazione in questo caso però dopo aver fatto un po' l'occhio a questa schiarita fiacca immagine ormai l'opera è stata la Cappella Peruzzi è stata scialbata cioè tutta coperta di pittura nel corso del tempo è descialbata per cui quello che noi vediamo è il risultato di una copertura e di una rimozione di un colore che nel corso del tempo per motivi di gusto era stata applicata sciaguratamente su quest'opera che cosa vediamo agli UV qui il ping pong tra un'immagine e l'altra ve lo faccio io vediamo che questi materiali chiari di una colorazione negli UV lattiginosa crema fluorescono in maniera piuttosto evidente restituendo la densità la volumetria la plasticità usiamo una parolaccia degli elementi architettonici dei volumi di queste figure che guardate soprattutto a sinistra sono assolutamente illeggibili difficilmente apprezzabili a occhio nudo è anche grazie ai risultati degli UV che si può recuperare in qualche modo il senso anche di quella solidità monumentalità plastica della Cappella Peruzzi e comunque del Giotto di Santa Croce che noi sappiamo dalle fonti era un testo pittorico fondamentale per Masaccio e per Michelangelo era stato per apprezzare questo è ovvio che un documento di questo tipo ci permette di recuperare qualcosa temporaneamente mica possiamo tenerli UV accesi al posto della luce naturale o artificiale comune all'interno della Cappella Peruzzi però vedete che elementi come questo sono in parte recuperati per lo stesso motivo perché questo accade perché con ogni probabilità c'è un materiale organico probabilmente dato a secco gli studi non lo hanno chiarito del tutto magari lo chiariranno fra i dieci anni con nuove tecniche che resiste ha resistito insomma nel corso del tempo e che ha mantenuto la propria fluorescenza proprio perché alcuni materiali specifici fluorescono attenzione la cosa più simpatica può avvenire quando abbiamo bisogno di capirsi un oggetto era stato dipinto scultura questo avviene spessissimo mi allontano molto dalle altezze cronologiche alle quali sono abituato per mostrarvi questo gruppo di sculture di figure in terracotta con tracce di policromia lo si vede nelle calzature in parte nella parte inferiore diciamo nella zona bassa della veste di queste donne se noi andiamo a vedere queste immagini in fluorescenza o v ci rendiamo conto della tipologia in certi casi addirittura possiamo fare delle ipotesi sul tipo di materiale impiegato per la policromia in origine vedete che questi elementi arancioni fluorescono in maniera notevolissima questo probabilmente è un materiale organico è possibile che si tratti di una lacca le lacche di solito hanno questa fluorescenza color salmone quasi di colorazione tra le vesti e l'incarnato anche queste sono dovute al fatto alla presenza in origine di un colore di una pittura su tutto quanto alla superficie dell'oggetto incredibili meravigliose applicazioni si possono avere anche sulle opere su carta per un motivo un po' bizzarro se mi sono spiegato bene all'inizio forse riusciamo a intenderci noi puntiamo le lampade agli UV su un oggetto e i materiali che hanno certe caratteristiche reagiscono e fluorescono e rimandano una luce di contro altri materiali non fluorescono ad esempio i restauratori guardano una superficie e vedono cercano delle zone nere in fluorescenza che sono le zone dei ritocchi pittorici solitamente i ritocchi pittorici un po' perché sono molto giovani un po' perché sono fatti con materiali che raramente fluorescono sono facilmente riconoscibili come macchie scure sulla viola o il verde o l'azzurro della vernice o della superficie per lo stesso motivo laddove esistano dei disegni che sono andati nel corso del tempo che sono diventati trasparenti che sono scomparsi non sono più visibili leggibili a occhio nudo perché i materiali o per l'azione della luce o semplicemente per il deteriorarsi di questi stessi materiali non sono più leggibili a occhio nudo ecco la fluorescenza in questi casi ci può dare possibilità di studio incredibili guardate questo è un disegno lo vedete della Royal Collection di Leonardo studio di mani le vedete le mani? no però per nostra fortuna la carta fluoresce e la punta metallica che è stata usata per disegnare questo foglio non fluoresce e per questo motivo noi in UV ci troviamo davanti un oggetto di questo genere capite bene che quel fogliaccio possiamo dire che potrebbe essere che so io un foglio qualsiasi da prendere a cartocciare e cestinare ora sto scherzando però è quasi impossibile a occhio nudo riconoscere tracce di disegno ora dopo aver visto l'immagine di destra qualcosa ad esempio la mano in alta a sinistra nell'angolo superiore a sinistro si riesce a scorgere anche a occhio nudo però capite bene che questo tipo di segno di tratto è andato completamente perso questa è insomma un'altra un'altra delle possibilità di studio della fluorescenza UV ora vi dico qualcosa della riflettografia infrarossa che è una tecnica che si ottiene fondamentalmente e con strumenti molto diversi fra loro la fotografia di questo apparecchio davanti al tondodoni è quella di uno scanner per fare riflettografie è uno strumento tutt'oggi all'avanguardia a livello internazionale che è stato creato dal CNR di Firenze di Arcetri l'istituto nazionale di ottica in cui ho lavorato per diversi anni dopo aver finito diciamo il perfezionamento qui alla normale e è uno strumento portatile un po' pesantino però è un po' faticosetto però le sue ruote l'ho portato anche in cima ai punteggi della Cappella Peruzzi una volta con grande fatica era estate faceva un caldo infernale l'abbiamo montato e poi sono praticamente svenuto e abbiamo aspettato un giorno prima di poter fare indagini perché sembrava però ecco questo è uno strumento che permette di fare riflettografie come funziona questo come fotocamere e telecamere agli infrarossi un principio fisico molto semplice che è quello dello cosiddetto scattering cioè della capacità dei materiali di farsi attraversare dalla luce dall'energia luminosa a diverse lunghezze d'onda allora a causa del diverso comportamento nel vicino infrarosso il vicino infrarosso va oltre i 700 nanometri che è la soglia a cui arrivano i nostri occhi per cui è una zona in cui i nostri occhi non possono non possono accedere perché la frequenza è superiore a quella che i nostri organi di senso ci offrono ecco grazie al comportamento diverso di alcuni materiali per fortuna nostra di molti materiali per la pittura alle lunghezze d'onda del vicino infrarosso la luce la stessa luce che colpisce comunemente gli oggetti quella del sole quella delle lampade alogene basta che le sorgenti luminose abbiano all'interno un neon non funziona per la riflettografia un led tarato senza infrarosso non funziona però le lampade alogene sono perfette con grazie all'interazione a una diversa rispetto a quel che accade nella zona in cui i nostri occhi agiscono della luce dell'energia luminosa con i materiali la luce non rimbalza in superficie come vedete a sinistra nel grafico indicato con vis visibile ma in IR infrarosso attraversa parte o totalmente tutti quanti gli strati pittorici arrivando dove arrivando alla preparazione che è riflettente rimanda indietro la luce con una fotocamera una telecamera uno strumento come quello che abbiamo visto noi possiamo catturare questa luce che torna indietro il problema qual è che alcuni materiali i materiali a base carboniosa carboncino lapis matite e molti altri inchiostri vari che sono i materiali che si usano per il disegno assorbono l'energia anche nell'infrarosso per cui quel pezzettino di luce che va a colpire una linea di disegno non rimbalza e torna indietro e quindi la nostra fotocamera non lo vede come bianco come luce che è rimbalzata e tornata indietro ma rimane si disperde quella freccettina rossa facciamo conto che sia un fotone un gruppo di fotoni che anche qui i fisici mi perdonino siamo davvero per la semplicità e banalità con cui sto affrontando il problema però ecco questa energia rimane intrappolata e si disperde è come se io tirassi una pallina da tennis su un muro e laddove i materiali diventano trasparenti fanno passare l'energia la pallina rimbalza sul muro e mi torna in mano naturalmente laddove invece la mia pallina il mio fotone vado a colpire una linea di disegno o un materiale che assorbe l'infrarosso la pallina come se prendesse uno spicolo non torna più indietro e si perde questo dà delle possibilità di studio incredibili perché gli artisti da secoli ma anche oggi disegnano molto spesso prima di dipingere soprattutto un tempo e il disegno certo può essere fatto realizzato anche con sanguigna inchiostri rossi materiali che diventano trasparenti all'infrarosso ma spesso sono invece a base carboniosa quindi assorbono l'infrarosso e risultano visibili in riflettografia il che è uno spasso davvero questo qualcuno ha acceso un microfono cosa succede ad esempio questo è un caso d'avvio tra quelli che vi voglio mostrare questo è il giudizio universale di Danzica di Membrink mi è capitato di farlo proprio con lo strumento che era davanti al tondodoni qualche tempo fa vi faccio vedere soltanto un particolare in basso il particolare più basso della tavola dell'inferno che è incredibilmente ricca di dettagli animatissima ecco in alto avete l'immagine a colori così come la si vede a occhio nudo e in basso che cosa vediamo noi? vediamo che parte delle rocce contengono materiale carbonioso soprattutto in basso a destra e rimangono scure ma l'incarnato e parte dei materiali nell'area centrale diventano trasparenti o parzialmente trasparenti e così è possibile vedere un disegno tra l'altro molto diverso rispetto a ciò che si vede a occhio nudo con questi dannati che anziché disperarsi a braccia larghe si tirano o questo signore con barba che vediamo rovesciato in primo piano ci rendiamo conto che ha la chierica e ha le mani giunte nell'immagine e nell'immagine agli infrarossi spero lo riusciate a leggere spero lo riusciate a leggere chiaramente quest'altra figura si tira i capelli e si contorce in maniera molto diversa rispetto a quel che si vede a occhio nudo cioè noi abbiamo la possibilità con la riflettografia di vedere il disegno soggiacente il cosiddetto underdrawing disegno sottostante attenzione è un disegno che gli artisti mai e poi mai si sarebbero sognati che potesse diventare visibile un giorno per cui non dobbiamo confonderci tra un disegno su carta e un disegno soggiacente alla superficie dipinta ha caratteristiche e una funzione completamente diversa per cui da spesso trovare dei disegni pasticciati pieni di correzioni in ambito internazionale vengono chiamati pentimenti beh ora di fronte a un'immagine dei dannati dell'inferno parlare di pentimento potrebbe essere pertinente certo che di fronte a correzioni di artisti come grafico pittoriche di questo tipo di artisti come Picasso che so io parlare di pentimento è abbastanza ridicolo per cui è meglio parlare di correzioni correzioni compositive ma la cosa interessante è che in riflettografia si riescono a vedere anche i metodi di costruzione i sistemi con cui sono state costruite le opere e ad esempio per disegnare dipingere poi architetture così complesse come quella di questo dipinto che sta al prado l'artista non è andato a mano libera come ha fatto Memling nel capolavoro di Danzica ma ad esempio ha usato e questa riflettografia lo mostra bene uno dei sistemi più noti diffusi nella storia della pittura ossia la tecnica dello spolvero le figure sono disegnate qui vedete i colori diventano quasi tutti trasparenti a pennello in maniera con delle correzioni si vedono ad esempio le ombre che sono tratteggiate ma nelle architetture soprattutto nelle architetture lo si apprezza meglio in questa seconda immagine che vi mostro spero che vada avanti mi si è bloccato il computer forse si è bloccato il computer comunque forse lo si vede anche qui intorno alla colonna in attesa che il computer riprenda a funzionare ecco nella nel lungo i margini della colonna o intorno ai capitelli si vedono questi puntini è un po' la tecnica della settimana eligmistica unisci i puntini cioè che cosa si faceva l'artista preparava un disegno che voleva trasferire nella maniera più precisa possibile sulla tavola o sulla tela o sul muro su un foglio su un cartone si chiama cartone in gergo da sempre in gergo artistico non tecnico scientifico il progetto definitivo che veniva usato per questi scopi veniva poi i contorni delle forme venivano buchettati il cartone veniva appoggiato esattamente sopra la superficie da dipingere e poi con un sacchettino riempito di polvere di carbone come spiega anche Cennino nel suo trattato veniva battuto spolverato il cartone e rimanevano delle tracce di nero e di carbone che sono per nostra fortuna visibili agli infrarossi sulla superficie dell'opera e poi l'artista col pennello come vediamo ad esempio qua in alto andava a rifinire in questo caso disegnativamente graficamente prima di iniziare a dipingere queste sono tracce di lavorazione prima dell'inizio della pittura in uno stato intermedio è piuttosto interessante in certi altri casi il computer sta facendo un po' di bizze abbiamo però la possibilità di vedere in riflettografia altre tecniche di trasferimento una delle più semplici i più grandicelli tra noi ma insomma siamo tutti grandicelli la conoscono è quella della chiamiamola volgarmente carta carbone cioè del ricalco meglio dire è quanto emerge ad esempio da questo da questo dipinto della pinacoteca di Brera sì il cartone non viene forellato ma viene appoggiato direttamente disegnato sulla superficie e poi con una punta viene vengono ripassati come si vede in questa immagine i bordi dell'immagine della della forma di solito il ricalco genera un segno così spezzato un po' meccanico che non è segno del fatto che Bellini non sapesse dipingere è che Bellini in questo caso per fare un disegno che non voleva venisse mostrato a nessuno perché anzi gli serviva un disegno bello marcato per poi poterci dipingere sopra con un bello spessore d'azzurro voleva trasferire in maniera piuttosto precisa l'immagine ovviamente esistono anche le correzioni compositive vi faccio vedere un caso piuttosto curioso in questa trasfigurazione noi abbiamo nella riflettografia in questo dettaglio della riflettografia a destra il volto del Cristo che era stato trasferito con lo spolvero lo vedete in alto anzi perdonatemi era stato disegnato inizialmente a mano libera in basso più in basso poi una volta trasformata cambiata l'idea compositiva generale l'artista ha detto no no attenzione ho capito ho fatto una stupidaggine bisogna che sposti una quindicina di centimetri più in alto tutta la figura di Cristo e cosa ha fatto ha preso il disegno la traccia che non era stata trasferita a spolvero nel primo momento e con lo spolvero lo vedete in alto piuttosto chiaramente ha ripreso e rifatto esattamente la figura del Cristo segno inequivocabile che esisteva un progetto preparatorio che è stato trasferito in un modo nel primo momento e poi in un altro nel secondo in altri casi i dipinti sono questo succede spessissimo in bronzino molto ricchi di disegno soggiacente questa è l'immagine di destra e anche l'immagine di sinistra a dire il vero fanno riferimento a un dipinto di Budapest che è stato per qualche tempo in restauro all'opificio l'immagine di destra vedete è contrassegnata a queste macchie bianche che sono delle stuccature di un restauro in corso d'opera per cui così si spiega questo non sto a dirvi la storia del dipinto che è piuttosto complessa però forse già in questa immagine totale si riesce a intuire qualcosa andando da vicino si vede ad esempio che ci sono delle zone come il volto della figura femminile che sono state disegnate a matita la calotta cranica e le sopracciglia sono tracciate con un segno un po' granuloso segno proprio dell'uso di una matita o un qualcosa di simile altre zone come quella del piede sinistro di questo amorino che occupa in verticale la parte sinistra dell'opera sono stati spostati e anche da un punto di vista pittorico non solo disegnativo noi troviamo in infrarosso un cambiamento dovuto a questi diversi comportamenti dei colori nell'infrarosso nella pena di uno di questi bambini di questi putti sulla destra troviamo invece questo fantastico mascherone non era il solo che era stato disegnato molto precisamente a matita in un angolo del quadro e poi è stato coperto dall'inserimento diciamo di queste figurine di questi bambini in altri casi la situazione non è così caotica ma è piuttosto interessante ugualmente questa è la Madonna dell'impannata di Pitti è un'opera che su tavola che sul retro vi faccio vedere un dettaglio per brevità ha avuto dei problemi e è stato fatto un intervento di restauro sulle tavole del retro retrostanti in infrarosso quello che si vede è questa traccia verticale scura dovuta al fatto che per restaurare nella zona di questa spaccatura che è stata risarcita con un tassello di legno sul retro la Pitti è stato usato un materiale che assorbe l'infrarosso per questo motivo risulta questa linea nera ugualmente sotto i piedi del bambino ci sono quelle macchie nere anche quelle sono restauri quindi anche la riflettografia serve a individuare i restauri poi se guardate bene il San Giovannino in basso a destra vi rendete conto che c'è un altro volto nella riflettografia ci sono delle ombre in questa zona che non corrispondono all'immagine che abbiamo a occhio visibile a occhio nudo andiamo più rapidamente attraverso la radiografia che è una tecnica che conosciamo la radiografia per motivi medici ahimè solitamente la radiografia consiste di fatto nel mettere una pellicola chiamiamola volgarmente lastra ma una pellicola sensibile ai raggi X da una parte oggi si usa nella radiografia digitale uno schermo al fosforo mettere l'oggetto la mano quello che deve essere studiato sopra questa superficie dell'oggetto esaminato che sia la mia mano o una scultura fa sì che i raggi vengano bloccati o passino l'oggetto se passano la pellicola si impressiona e risulta nera se vengono bloccati come accade nel caso delle ossa ma di tutti gli oggetti metallici ad esempio i raggi vengono bloccati e l'immagine rimane bianca nel caso della pittura contano moltissimo anche le sfumature le gradazioni questo è un dipinto del Metropolitan e questa è la sua radiografia noi capiamo perfettamente che non possiamo studiare il disegno preparatorio con la radiografia attenzione perché il disegno preparatorio in termini di radioopacità non ha alcun valore perché che sia quasi tutti i materiali per il disegno sono trasparenti la pittura gli strati pittorici e poi il supporto il legno del telaio tutti i chiodini si vedono in bianco i materiali più radiopachi il bianco di piombo ad esempio i rialzi luminosi le pieghe si riescono a leggere molto bene ma al tempo stesso si vede lo vedete molto bene in quest'angolo del dipinto anche le zone con delle lacune che magari sono state risarcite con materiali non radiopachi e in radiografia risultano scure perché i raggi lì non hanno incontrato il bianco di piombo e per cui sono riusciti a passare meglio la radiografia è utilissima per studiare il supporto è utilissima per studiare la parte interna insomma dell'opera ma anche per studiare lo stato di conservazione in certi casi nella scultura la radiografia è molto molto generosa anche perché anzi la radiografia per la scultura con alcuni materiali è l'analisi principe questa è una delle sculturine polimateriche di Degas cera plastilina è un'armatura metallica beh l'armatura metallica ce l'aspettiamo risulterà radio opaca per cui bianca e infatti che cosa avviene questa sculturina una volta radiografata si presenta in questi termini e risulta chiarissimamente come l'anima metallica in questo caso non sia nient'altro che una sorta di sagomina modellabile una figurina modellabile di fili metallici con delle giunzioni molto particolari se la sarà fatta Degas se la sarà costruita lui quest'anima in metallo direi di no perché andando a vedere nei cataloghi di vendita dei materiali per l'arte si trovano numerose armature articolate come dal francese come quella che vedete qui che o come quest'altra che vi mostro che hanno proprio anche le stesse rinforzi lungo gli arti per poter snodare diciamo muovere la figurina come meglio si crede attenzione un confronto fra due indagini e poi passo all'ultimo caso e vado verso la conclusione torniamo un attimo alla Madonna dell'impannata così incominciamo a orientarci un po' sulle diverse possibilità di studio delle analisi la riflettografia che abbiamo visto prima ci mostrava a dire il vero anche il disegno preparatorio ma da questo generale non è possibile il restauro ci mostrava ci mostrava in questa zona a destra delle ombre che forse ci potrebbero indicare tracce di una correzione compositiva la radiografia che qui vedete oltre a mostrarci l'opacità di legno che abbiamo intuito nella foto del retro in alto e in basso e oltre a mostrarci anche le fibre del legno e vari elementi riferibili ai restauri ci mostra non solo una diversa versione del San Giovannino che si intuiva già lo vedete lo sto appuntando qui nell'infrarosso ce lo mostra assai meglio ma ci mostra anche un San Giuseppe seduto quasi di spalle che indica anzi no scusate questa è la mano del San Giovanni che c'è oggi che se ne sta bello seduto è buono a guardare la scena come capita sovente di incontrare in immagini di questa iconografia e che è stato completamente coperto da Raffaello i cambiamenti il riuso il reimpiego sono all'ordine del giorno e in radiografia e si incontrano facilissimamente Modigliani studiato dai più grandi musei del mondo vuoi anche per i problemi di autenticità che i Modigliani comporta e sono fatti dei passi avanti notevolissimi con queste campagne di indagini per chiarire diversi problemi era solito riusare tele e questo è un caso dell'artistico di Chicago abbastanza evidente c'è questa figura sul fondo l'avrà dipinta Modigliani probabilmente no ma potrebbe anche darsi non stiamo a discuterlo adesso chiudo con questi ultimi minuti che mi restano e poi spero insomma se avete le domande sono qui per voi con un caso che fa riferimento a Osvaldo Licini in cui le diverse indagini possono essere combinate lo passo in rassegna abbastanza rapidamente sono già passate due ore sarete stanchi ma spero che sia abbastanza chiaro e ricco anche di interesse questo è un dipinto si chiama Angelo Ribelle su fondo rosso figura del 46 circa di Osvaldo Licini è un dipinto che sta al museo civico di Ascoli Piceno Licini era di Montevidon Corrado un paesino che sta a metà strada fra Macerata Fermo e Ascoli Piceno un ramo della famiglia si è poi stabilito a Ascoli Piceno e le opere un buon nucleo di opere stanno in questo museo civico che sta in una città che è una delle meraviglie d'Italia in assoluto Ascoli Piceno e mi è capitato già durante gli studi normali di studiare appunto quest'opera hai un'immagine ravvicinata già ci rendiamo conto anche della ricchezza di materia di questo angelo perché ha queste sciabolate di colore spruzzato quasi rosso nero e bianco che si accavallano addirittura se noi guardiamo in un'altra zona del quadro in basso ci rendiamo conto che per tracciare questa linea che divide la zona nera dalla zona rossa le scine a un certo punto ha graffiato la superficie l'ha grattata e approfondendo con la macro fotografia quasi micro fotografia queste immagini ci rendiamo conto che si vede in questa zona il rosso e il nero il nero sta sopra il rosso della pittura si vede poi una pittura verde che niente ha a che vedere con questo dipinto il bianco della preparazione e addirittura le scine era un po' arrabbiatello si vedono addirittura delle fibre di tela che sporgono dalla preparazione vedete proprio la preparazione qui si capisce come è fatta è gessosa rigida e quando viene graffiata si scaglia proprio passiamo alle indagini la prima indagine che mi capitò di fare proprio mentre ero in normale fu la luce trasmessa retroilluminazione avevo visto una cosa strana occhio nudo che non mi tornava molto nella superficie e retroilluminando il dipinto che cosa accade accade che viene fuori questa sagoma che è una sagoma di una figura sembra un ritratto qui ho girato ovviamente di 90 gradi l'immagine che dà da pensare dà da pensare soprattutto perché perché somiglia molto ad alcuni ritratti per questa testa squadrata che si intuisce la rivediamo un attimo somiglia molto a un gruppo di ritratti di questa bambina detta Nella chiamata Nella che verso la fine degli anni 20 Licini ritrae più e più volte come questa lettera documenta e queste sono alcune immagini di questo gruppo di ritratti di Nella il dipinto in retroilluminazione è parente stretto palesemente di questi ritratti non solo tornando sul davanti portando la luce in luce radente in posizione di radenza anche a occhio nudo guardate anche a occhio nudo spero lo si veda a vedere gli spessori degli occhi e del volto vedete un occhio l'altro occhio la capigliatura non so se sia facilmente riconoscibile beh detto questo qualche anno più tardi sono andato a radiografare l'opera e la radiografia beh dà un risultato ancora migliore lo si vede chiarissimamente la figura si stacca piuttosto bene rispetto al fondo suo originario è stretta apparente di alcuni ritratti che sopravvivono come quello che vedete a destra e poi è stata coperta interamente da questo angelo ribelle sul fondo rosso non solo ho provato per finire a fare anche una riflettografia infrarossa ora l'infrarosso non ve l'ho detto per non complicare le cose ma l'infrarosso si può fare a diverse lunghezze d'onda perché al variare della lunghezza d'onda cambia il comportamento dei materiali lì per lì in riflettografia non sembrava fosse il risultato di questa bambina fosse eclatante vedete si intuisce la sagoma del volto qualche forma poco o nulla a un'altra lunghezza d'onda prima eravamo ai 1000 nanometri passo ai 2000 nanometri la situazione è quasi identica per fortuna però esiste nelle tecniche diagnostiche esiste la possibilità di far tesoro del falso colore che è una tecnica che si usa in tante forme di diagnostica medica l'ecodoppler e mille altre tecniche che non vi sto a dire possono essere lette anche in falso colore combinando informazioni delle indagini in maniera diversa rispetto a quello che la semplice indagine offre ecco le immagini a colori che noi vediamo e che sono realizzate da tutte le fotocamere digitali comprese quelle di telefoni sono immagini che si dicono RGB cioè sono la somma di tre immagini una nel rosso una nel verde una nel blu sono tre zone dello spettro elettromagnetico che i sensori contenuti nelle fotocamere riescono a registrare noi vediamo le immagini a colori nella fotografia digitale perché queste tre zone vengono combinate insieme dal computerino che sta qui dentro dalla fotocamera e vengono tradotte nell'immagine a colori così come la vediamo se noi invece di combinare con la stessa tecnica quel che vediamo occhio nudo combiniamo insieme tre immagini di infrarosso abbiamo l'infrarosso falso colore che è un'indagine che ovviamente non porta ai colori veri reali però esalta certi contrasti nei comportamenti diversi dei materiali nel nostro caso il gioco è piuttosto divertente e forse porta un risultato che è ancora più avanti rispetto alla radiografia non solo rispetto alla luce trasmessa e con questo chiudiamo cioè riusciamo a distinguere la colorazione dei capelli dall'incarnato dalla veste l'incarnato lo vediamo anche nel braccio che attraversa orizzontalmente la scena e riusciamo a leggere addirittura qualche elemento dell'ambiente dello spazio della stanza retrostante insomma passo passo usando queste indagini come documenti che noi uniamo alle lettere alle fotografie alle fotografie di altri dipinti eccetera eccetera riusciamo a raccogliere dei dossier che possono portarci molto avanti anche nell'interpretazione degli oggetti e delle opere d'arte si tratti di opere antiche o si tratti di opere moderne come quella che abbiamo davanti agli occhi bene io mi fermerei qui sono le sei meno un minuto insomma spero di non avervi asfissiato appesantito troppo sono disponibilissimo per domande curiosità e così cosa non ho la bibliografia con me sarebbe tardi per illustrarvela ve la porto e ve la passo la prossima volta se ci sono domande non so interrompo la condivisione e poi non so se se arrivano o meno se ci sono energie aiuto ora poi per chi è da casa ripeto la domanda olio su tela olio su tela quella rossa o quella quella in blu allora è una tela anche quella è una è una tela non vorrei forse un cartone lo vado a rivedere rapidamente no è olio su tavola no no è su tavola questa è eccezionalmente una tavola scusi è possibile fare una domanda sì allora vi riporto mi stanno facendo una domanda ora ve la ritrasferisco ve la ripeto io a microfono e poi mi falle la domanda posso? un attimo solo allora la domanda che mi è stata fatta è che riporto ai distanti visto che ci abbiamo a casa la domanda che mi è stata fatta poi procedo mi faccia poi dopo la domanda se nell'immagine dell'omaggio a Cavalcanti di Licini soprattutto credo l'immagine ravvicinata si vedeva nella zona bianca che aveva la sola preparazione ora non riesco a ricondividere lo schermo per cui non non la ripresento però se era possibile che fosse stata lavorata a macchina diciamo sì giusto è colpa mia scusate scusatemi tanto bene allora no no allora le tavole contemporanee questo aveva una tramatura regolare sembrava più una tela o comunque un altro materiale allora le tavole contemporanee sono molto spesso tavole non di falegnameria artigianale non sono finissimamente preparate lavorate non sono piallate e le stesse preparazioni che vengono applicate sulle tavole sono spesso delle tavolette molto sottili molto fragili spesso non sempre che sono di recupero magari prese da mobili da elementi più diversi un artista ad esempio come Licini ma capita spessissimo in età contemporanea quando i materiali sono meno costosi e l'artista si rapporta a essi con maggior disinvoltura rispetto al passato fare l'adorazione di magi significava investire sulla preparazione del tavolato che costituiva il supporto figuriamoci poi tutto il resto per cui il rapporto tra artista e materiale e l'investimento in termini di energie anche economiche ma non solo è molto diverso ecco in età contemporanea le tavole quando sono presenti spesso non sempre sono molto leggeri fragili a volte dozzinali per cui è possibile anche che presentino un aspetto molto diverso da quello che ci si aspetterebbe da un dipinto su tavola normale anche per i problemi conservativi che comportano fanno un po' specie a sé ecco questa è un po' la risposta che mi sento di darle per cui è una giusta osservazione perché effettivamente quella superficie che poi era un po' martoriata era stata grattata più volte dagli cini non so stato a dirvelo è piuttosto singolare e ora restituisco la parola non so chi grazie grazie mi chiamo Becarelli Claudia volevo fare questa domanda prima lei ha fatto vedere la madonna dell'impannata sia in riflettografia e radiografia e ha evidenziato che mediante la riflettografia si evidenzia il disegno soggiacente per le ragioni scientifiche che aveva spiegato prima mentre attraverso la radiografia si evidenzia il supporto e si evidenziano i materiali radiopachi ecco ma siccome lei ha evidenziato appunto che la maggioranza dei colori sono trasparenti quali sono invece i materiali radiopachi nei colori quali sono i colori radiopachi è questo che non ho capito allora la radiopacità riguarda soltanto la radiografia e diciamo così è un valore che cambia in base a tre parametri fondamentalmente la radiografia cioè cambia in base al peso atomico dei materiali che costituiscono l'oggetto che noi esaminiamo in quell'area per cui il peso atomico del piombo è maggiore e è maggiore la radiopacità rispetto al peso atomico che so io di un altro metallo o di un elemento che magari costituisce una lacca anzi ad esempio le lacche solitamente anzi le lacche naturali che siano di origine vegetale o animale hanno sono ovviamente costituiti da elementi però sono elementi assolutamente leggeri non radiopachi non hanno un numero atomico tale per cui i raggi X vengono in qualche modo bloccati durante l'attraversamento dell'oggetto esistono dei materiali dei pigmenti nella pittura antica così come nella contemporanea che sono più radiopachi di altri solitamente i bianchi che in origine erano solo bianchi più o meno a base di piombo poi in età moderna è stato introdotto lo zinco che è un materiale che ha una sua radiopacità in età contemporanea il titanio in età piano novecento il titanio che ha anch'esso una sua radiopacità i bianchi di solito storicamente sono visibili in radiografia altri colori ad esempio i verdi verdi a base di rame ne esistono di antichi e di moderni sono radiopachi ma meno del bianco di piombo esistono delle tabelle di riferimento ma non è solo il peso atomico che interessa se vi ricordate quella chiazza scura quella zona quella isola scura nera che abbiamo visto nel Caravaggio e che era dovuta a una caduta di colore quel discorso non solo col variare del peso atomico ma anche col variare dello spessore del materiale cioè se io ho una superficie tutta dello stesso materiale ma la incido per intenderci e tolgo anche pochissimi millimetri di materia rispetto al resto della superficie in radiografia la zona incisa con meno materia risulterà meno radiopaca per cui scura rispetto al resto della superficie le variazioni in termini di scala di grigi sono molto sensibili sono molto leggere quindi peso atomico e spessore un altro parametro è quello della densità e questo si vede soprattutto quando si va a radiografare che so io un asse di legno può variare la densità tra un materiale e l'altro tra una fibra un'essenza e un'altra e la radiopacità di sessore a parità più o meno anche di elementi può cambiare moltissimo per cui sono questi tre i parametri la radiopacità dei pigmenti invece corrisponde diciamo così a una gamma molto ampia noi però dobbiamo sempre tenere presente che i pigmenti è raro che siano applicati individualmente in maniera isolata cioè sono spesso in miscela si sovrappongono per cui alla radiopacità del piombo potremmo dover sommare la radiopacità del rame e allora una zona che avrà rame più piombo sarà più radiopaca più bianca e radiografia di una zona col solo piombo per questo motivo bisogna che al tavolo di lavoro ci stiano non solo gli storici dell'arte ma anche i fisici i chimici e i restauratori perché i restauratori meglio degli storici dell'arte e degli scienziati sanno leggere la materialità dell'oggetto e svolgono un ruolo fondamentale in riflettografia invece tutto dipende dal grado non di radiopacità ma di assorbimento degli infrarossi e anche qui l'assorbimento massimo è quello del carbone che è al 100% assorbente nell'invicino infrarosso per cui risulta nero noi mandiamo la luce lì e non torna indietro per cui la fotocamera lo strumento registra un'immagine nera in quella zona esistono però altri materiali che al variare delle lunghezze d'onda nell'infrarosso cambiano qualità di assorbimento nell'infrarosso per dire ci sono dei blu dei blu anche moderni come il blu di cobalto molto diffuso in età moderna non esisteva ai tempi di Giotto ma ai tempi di Picasso sì che appena entriamo nell'infrarosso il vicino infrarosso va dai 700 nanometri ai 3000 nanometri più o meno appena entriamo nell'infrarosso sono trasparenti il blu di cobalto se noi facciamo una riflettografia non vi sto a dire ci sono dei sistemi a 900 nanometri altri per farli a 2200 sono due analisi quasi diverse noi le abbiamo per semplificare messe tutte insieme ci sono dei materiali vi dicevo che a 800 nanometri sono trasparenti blu di cobalto perfettamente trasparente quando arriviamo intorno ai 1200 1500 assorbono l'infrarosso se noi andiamo a vedere proprio il comportamento nello spettro elettromagnetico c'è una curva di assorbimento assorbono l'infrarosso e passata una certa lunghezza d'onda tornano a diventare trasparenti ovviamente conoscendo il comportamento si riesce anche a riconoscere il materiale semplicemente attraverso una riflettografia che è una meraviglia perché blu di cobalto anche da un punto di vista della conservazione presenta dei problemi che altri blu non presentano per cui poter capire che lì c'è un materiale senza campionare senza indagini invasive è un bel vantaggio tenete conto che non ve l'ho detto ma oggi noi parliamo di analisi non invasive ma esistono le analisi invasive dal carbonio 14 alla gas massa sono analisi importantissime servono a datare i manufatti quando è possibile servono a capire che problemi hanno di cosa sono fatti i materiali ma bisogna fare dei campionamenti togliere con un bisturi un frammento per quanto piccolo di materia originale e non lo si potrà rimettere a posto quell'oggetto va perso magari lo si può conservare in laboratorio se l'analisi è invasiva ma non distruttiva molte analisi però sono distruttive in certi paesi boccaccia mia tutte le volte mi dicono lo dire però in certi paesi si continua a campionare con una disinvoltura pazzesca io una volta andavo in un museo del nord Europa a fare delle riflettografie su un fanai vado a fare una riflettografia su questo fanai che eravamo io e una fisica in quel caso si fa questa riflettografia e si vede questo dipinto che è un dipinto anche piccolino poco più schermo che ho davanti agli occhi che è pieno di buchini neri che non riusciamo a capire ma diciamo ma cos'è questa cosa qui ma c'è un difetto dello strumento ma cosa sarà successo guarda e ti riguarda chiama il restauratore il restauratore arrossisce un po' e non ci dice nulla io vado via con questo dubbio dopo un anno e mezzo a un convegno su tutt'altro mi capita di parlare con una storica dell'arte che aveva lavorato su fanai che stava pubblicando un libro su fanai e quando sa che oltre a quella era andato a Ghent avevo fatto l'altare me l'ha capitato un periodo abbastanza fortunato perché per uno storico dell'arte è un luna park questo capite bene è come andare alle giostre da bimbo e quando seppe che ne avevo fatti diversi mi incominciò a chiedere questa storica dell'arte ma qui ma qui non so perché mi venne in mente ma lo sai che su quel dipinto trovai tutti dei puntini e ci credo ci hanno fatto 120 campionamenti 5-6 anni fa 120 campionamenti si vedevano si vedono perché quelli sono quindi l'importanza per farla breve uscire dalla battuta un po' anche triste di spingere la ricerca al massimo sulle analisi non invasive così come in ambito medico per gli stessi motivi anche in ambito di bene culturale è fondamentale e è un bene che si faccia ricerca è un bene che ci siano queste infrastrutture è veramente un bene perché di fatto è una insomma dà delle possibilità enormi di studio anche per caratterizzare i materiali per identificarli ora non mi riesce più di farvi vedere vedo se riesco di farvi vedere non so se ho risposto ecco intanto per prima cosa no la ringrazio perfettamente bene se ci sono altre domande sono pronta a rispondervi io sono ho un un non so se da casa lo vedono sto provando volevo condividere lo schermo adesso sì perché proprio sui Van Eyck così potete fare anche la caccia al tesoro al tesoro un po' al delitto diciamo proprio su Van Eyck c'è un progetto meraviglioso con cui ci si può divertire un sacco online si chiama Closer to Van Eyck basta googolare Closer to Van Eyck che è uno spasso e questo è un database prima di tutto c'è l'altare di Ghent che sta al centro di questo progetto ma poi c'è ormai una qui non sono online è una slide per cui non ve la posso mostrare adesso c'è una vera e propria mappa dei dipinti di Van Eyck presenti a giro per il mondo sono state raccolte tutte le indagini e sono consultabili liberissimamente online è un progetto curato da uno studioso diciamo fiammingo che viene in Canada Ron Spronck che è uno dei tanti specialisti illustrissimi per me modello che opera in questo settore e è un progetto davvero io vi invito così come quel rethinking che vi ho detto vi invito a consultarlo perché non state a guardare il sito web complicatissimo in basso basta scrivere Closer to Van Eyck e un pochino si gode ci sono altre domande? salve buonasera buonasera sì avevo un paio di dubbi con riferimento al materiale che si usa e il supporto il balame credo che sia stato un olio su tela e l'altro di tanti che abbiamo visto oggi credo che sia tempera come cambia l'applicazione delle tecniche quando si tratta dell'opera e del materiale ovviamente allora ecco di questo parleremo molto meglio giovedì quando ah grazie no quando parlando di pittura tra 8 e 900 magari davvero recupererò balla così integreremo in qualche modo anche il discorso di oggi con un altro esempio piuttosto divertente spero però parleremo meglio giovedì perché la scelta dei materiali da parte dell'artista è un diciamo così un elemento essenziale sia da un punto di vista espressivo cioè gli artisti scelgono dei materiali dei procedimenti perché li ritengono i più adatti a ottenere certi risultati quindi a raggiungere gli obiettivi da un punto di vista espressivo linguistico sia da un punto di vista conservativo esistono dei materiali che da secoli da millenni vengono usati dagli artisti e hanno un tempo vita lunghissimo e non si modificano se non pochissimo nel corso del tempo e altri materiali invece che ai noi si deteriorano terribilmente nel corso del tempo o che addirittura hanno un tempo vita brevissimo gli artisti a volte operano consapevolmente a volte invece operano così un po' ingenuamente tra 8 e 900 ne parlerò la prossima volta capita spesso di trovare dei grossi pasticci perché gli artisti si affidano ai materiali di produzione industriale così come fanno oggi ma lo fanno usando impiegando per le loro opere d'arte dei materiali non testati non validati da una pratica secolare ma materiali appena introdotti sul mercato nel caso di Balla sono entrambi dipinti a olio con materiali diciamo così la materia ha un aspetto molto molto diverso non mi stupisce che lei li ricordasse come due materiali diversi una tempera e un olio la tempera ha un legante solitamente a base d'uovo completamente diverso dall'olio che appunto si basa su un olio esistono diverse tipologie di olio gli effetti che si possono usare a raggiungere con questi due leganti con questi diversi media sono molto lontani fra loro solitamente una pittura più liscia più piatta noi la riconduciamo otticamente alla tempera per cui presumo che lei ritenesse una tempera la mano del violinista però al di là di questo il variare tecnico è una scelta progettuale espressiva nel corso del tempo tutto dipende dalla natura dei materiali impiegati alcuni possono scurire pensate ai girassoli di Van Gogh ve ne parlerò un po' giovedì i girassoli di Van Gogh sono stati dipinti con dei gialli molto fragili alla luce all'umidità e che scuriscono diventano bruni diventano marroni per cui fondamentalmente e inevitabilmente andranno persi nel corso del tempo più li si guarda più li si tiene esposti però al di là di questo le situazioni sono molto molto diverse davvero molto diverse da un punto di vista delle analisi non cambia molto se un dipinto è a tempra olio per le analisi che abbiamo visto oggi devo dire la verità cambia ovviamente se stiamo parlando di una pittura su un muro perché la radiografia a un muro non la possiamo fare perché non sfonda per dire così tutto quanto l'oggetto spero di aver risposto grazie sì ma la mia domanda andava un pochino verso a un dettaglio che credo che nell'olio uno può trovarsi da solito delle cape spesse di pittura e questo secondo la luce fa che cambia il colore e io credo che questo è la bellezza dell'olio che è veramente diverso da quello della tempera che è più piatta e che per quello che ho visto nel San Matteo si usava più di verniciare in quel senso era la mia domanda sì storicamente hanno un ruolo proprio diverso sì sì e degli effetti diversi sì c'è qualche altra domanda se è possibile vorrei capire al termine della lezione ha spiegato la riflettografia a falso colore io sinceramente non ho capito quali vantaggi comporta rispetto alla riflettografia normale allora rispetto alla riflettografia normale la riflettografia in falso colore comporta dei vantaggi molto precisi nel senso che la riflettografia normale è una riflettografia in bianco e nero come vediamo in questi tre esempi un po' miniaturizzati e nel caso specifico ad esempio di questo dipinto il contrasto tra le zone scure e le zone chiare cioè le differenze di comportamento dei materiali nel vicino infrarosso sul singolo non sono molto apprezzabili tant'è che qui noi vediamo queste linee nere dell'angelo la zona nera con questa curva sì è vero quella specie di luna in basso a sinistra la vediamo in riflettografia che è fatta di due colori molto diversi fra loro uno grigio più scuro e un altro riflettente bianco vediamo qualche altra modifica trasformazione del dipinto in basso ai piedi dell'angelo vedete c'è una zona orizzontale scura ma vediamo pochissimo della figura nascosta perché la riflettografia infrarossa a una sola banda non dà grandi possibilità combinando le tre bande diverse a tre lunghezze d'onda in questo caso lo vede nella didascalia 1050 106 2 e 2 si ottiene un'immagine a colori per il procedimento che vi ho detto prima cioè si queste tre immagini sommandole sovrapponendole le informazioni di queste tre immagini vengono elaborate insieme fuse insieme e il risultato che si ottiene è una una sola immagine fatta del mix di queste tre distinte lunghezze d'onda e anziché risultare un'immagine a colori come quella a sinistra qui col fondo rosso la banda nera eccetera come la vediamo nel visibile con i nostri occhi se andiamo a Ascoli al museo civico nella riflettografia infrarossa in falso colore queste tre immagini originariamente in bianco e nero vengono a creare una gamma di colori tendente a rosso arancio e giallo completamente alterata irreale falsa per quale motivo questa immagino offre più risultati perché le pur minime differenze di comportamento nel vicino infrarosso tra materiali diversi quello che qui vediamo come rosso della camicia rispetto al verdastro del collo ecco quel tipo di differenze minime nella singola immagine bianco e nero sommandole sommate così si traduce in una cromia dai toni piuttosto vivaci se vi ricordate se vi ricordate quando abbiamo visto giusto per fare un esempio il andare un pochino più a fondo il quell'immagine ingrandita con quel graffio vedevamo che c'era il rosso e il nero tra il rosso e il nero c'era non solo la preparazione bianca ma uno strato verde ecco quello strato verde corrisponde a ciò che qui appare marrone con altre indagini vi parlo puntuali siamo andati a misurare a caratterizzare questa colorazione verde e l'abbiamo ritrovata in tutta questa zona che qui vediamo marrone perché di fatto il comportamento di quel materiale con questa somma falsa di immagini dà marrone altri materiali danno il rosso altri materiali danno il rosa o questo verdastro la cosa interessante è che riusciamo combinando dei risultati diversi che dicono poco individualmente a ottenere un nuovo risultato che invece almeno questo mi sembra che sia l'effetto finale di questa di questa indagine ci fa capire con una certa precisione la vicinanza se non altro ad altri dipinti di questo ritratto di Nella che è stato sommerso dal colore non so se mi sono spiegato adesso sì grazie nonostante non non pretasse le immagini mi è sembrato comunque grazie ho capito grazie no mi dispiace tanto mi sono ingannato mi sono ingannato comunque la cosa perché sto facendo un po' di fatica la cosa la cosa di base che bisogna ricordare quando si parla di immagini in falso colore è che le immagini digitali che siano quelle di un ecodoppler che siano quelle di una radiografia che siano quelle di una fotografia a colori luce visibile comprese quelle scattate dal telefono sono immagini che sempre sono il risultato di una elaborazione di un calcolatore di un computer che sia il processore che sta dentro un telefono o che sia il calcolatore di una fotocamera o di un digitale o di un computer vero e proprio e noi vediamo a colori l'occhio il vero e proprio occhio sensore meglio dire della fotocamera anche dello smartphone non lo vede a colori lui lo vede lo legge la fotocamera lo legge in termini di bianco e nero ne prende tre di immagini il sensore al silicio è questo il materiale principale dei sensori delle fotocamere di tutti i tipi digitali il sensore al silicio registra queste tre immagini bianco e nero nella zona del rosso del verde e del blu le somma insieme e viene fuori un'immagine a colori di questa stanza di un paesaggio o di qualsiasi cosa nello stesso modo noi combiniamo tre immagini bianco e nero ottenute in riflettografia spero di di aver di aver risposto ci sono grazie prego se ci sono altre domande io la cosa davvero che tengo a sottolineare è che questo è un settore che sta crescendo molto e che effettivamente tolta questa dimensione spettacolare che vi ho detto all'inizio che a volte è dannosa e a volte è fuorviante effettivamente le possibilità di studio sono molto importanti sull'antico come sul contemporaneo poi anche in altri ambiti scultura ceramica in ambito archeologico non se ne parla insomma sono numerosissime io volevo rientrare per salutare alla fine Mattia e dirle che è stata una lezione molto bella spero sia stata utile per tutti ho imparato anch'io molte cose ne parliamo capita di fronte a casi concreti ma mi è piaciuta in particolare la la carrellata che ha fatto di varie tipologie di possibilità insomma di lavorare con queste tecniche non invasive ogni volta applicata ad un caso concreto mi sembra che sia stata una una lezione davvero molto utile molto produttiva molto fattiva grazie Mattia grazie davvero grazie a voi e ci vediamo giovedì giovedì credo di poterti fare la presentazione in presenza insomma e quindi salutarti in presenza grazie a tutti arrivederci grazie arrivederci a tutti arrivederci grazie arrivederci grazie arrivederci complimenti grazie a tutti